Allora, l'occasione di questa presentazione dei candidati per il Rettorato 2019-2025 è un'occasione privilegiata per il senso di appartenenza all'istituzione universitaria al di là di quello che oggi, come oggi, come voi sapete, si cerca di trovare la soddisfazione del cliente, che naturalmente quando si introducono questi termini il livello del discorso si è notevolmente abbassato. Io vorrei che voi aveste un'idea e cerchiaste di riscoprire un senso alto di università come luogo in cui collaborano diverse competenze e soprattutto tra colleghi si è impegnati in un atteggiamento di ricerca, non di contesa, di uni con gli altri. Nella consapevolezza che il confluire di diverse competenze e di risultati diversi è motivo di arricchimento, non solo a livello, diciamo così, personale, ma anche a livello istituzionale. Non faccio altri richiami, anche se sarebbero facili per me da fare, naturalmente. E mi limito a ricordare alcune regole che ci siamo dati di comune accordo, chiedo scusa dell'espressione, va bene, per la conduzione di questa presentazione. La prima cosa che devo dire è che, lo ricordo più che altro perché tutti lo sappiano, ma i candidati lo sanno già, naturalmente è ovvio, cioè non è una questione nuova per loro, che ognuno avrà a disposizione al massimo 30 minuti e naturalmente nell'ordine parleranno il professor Pierfrancesco Nocini, il professor Andrea Sbarbati e il professor Carlo Combi. Quindi questa sequenza, questo ordine, verrà naturalmente scalato nelle risposte alle domande. Ci saranno cicli di quattro domande circa, da parte del pubblico o da parte delle aule collegate, in modo tale che questo ordine, pur rispettando la sequenza, consenta a ciascuno di essere il primo a parlare in certi momenti, eccetera, come voi sapete. Ricordo, perché naturalmente poi il pubblico si prepara un po' alle domande, che le domande dovrebbero rientrare nei termini precisi massimi di due minuti, va bene. Ognuno può prepararsi un foglietto naturalmente e chiedere. E riguardare non tanto il singolo candidato o il singolo punto di programma di un candidato, ma piuttosto i punti generici, diciamo così, di impossibile programma di rettorato, in modo tale che tutti i candidati possano eventualmente, se lo ritengono, rispondere. Nessuno ha diritto di replica, questo è ovvio perché altrimenti tramutiamo l'occasione per un dibattito ad persona, e i candidati si impegnano al massimo, entro gli otto minuti, a fare il giro, diciamo così, delle risposte. Non per ciascuno a otto minuti, naturalmente. Ricordo questi aspetti più che altro perché tutti sanno un po' la possibilità che hanno e pregherei chi fosse intenzionato appunto a prepararsi, diciamo così, delle domande precise, magari sentendo quello che viene detto, naturalmente, non è detto che uno le abbia già preparate a casa, vero, naturalmente, in modo tale che le cose possono svolgersi nel modo migliore. Ci siamo impegnati, alle ore 13, di concludere comunque il nostro incontro. Non c'è, naturalmente, necessità, se per caso le domande si sono esaurite e pensiamo di concludere, anche di finire prima, però non oltre. Chiedo scusa della precisazione, la faccio perché, naturalmente, una persona sappia che noi prenderemo, diciamo così, premeremo sul freno, diciamo, quando ci si avvicina in modo tale da evitare di sporare. Passiamo adesso al primo candidato. Il primo candidato è il professor Pierfrancesco Nuccini, si è laureato in medicina e chirurgia a Pavia, nessuno dei candidati si è laureato qui a Verona, nel 1981, ed è specialista, come voi sapete, in chirurgia maxillo-facciale e odontostomatologia. È ordinario di chirurgia maxillo-facciale dal 1997, è stato direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili per il periodo di 2010-18 e è stato presidente anche della Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale per il biennio 2015-2017, oltre che membro del Consiglio Educativo della Società Europea Maxillo-Facciale, per il quadriennio 2001-2005. Lascio la parola e naturalmente, prego. Grazie, grazie signor Presidente, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, veramente grazie per essere tutti qui, perché è veramente bellissimo vedere tantissime persone che hanno desiderio di partecipare a questo momento. Un saluto va a Vicenza, a Cavignal e un saluto a Scienze Motorie. Questo programma che abbiamo scritto è il termine più corretto perché nasce da un lavoro di un gruppo di persone che sono rappresentate in questo teneo, perciò da docenti, da personale tecnico amministrativo e da studenti. Per questo qui è una cosa molto bella, che mi è piaciuto poter unire tante persone, perciò è un programma di un gruppo di persone ed è ovviamente firmato da me perché ho condiviso all'inizio. Tantissime cose sono nate dall'esperienza, molte cose sono in progetto, certe cose sono un piccolo sogno che ha la possibilità, riteniamo noi in maniera concreta, di essere realizzato. Perciò, importantissimo, nei nostri dodici dipartimenti è molto importante l'ascolto delle persone. Questi sono punti di riflessione che noi abbiamo in questi mesi, valutato molto attentamente, tutti discutendo e ognuno di tutti noi ha voluto, potiché rappresentavano le quattro macro aree, la possibilità di poter dire l'ascolto delle persone per noi è la prima partenza, la cultura ovviamente deve essere al centro, deve esservi una crescita armonica ed equilibrata in tutti i dipartimenti e la possibilità, e che non è un'utopia, di un'integrazione tra le macro aree. Le persone al centro è l'importanza di valorizzare le competenze individuali, persone giuste al posto giusto, molte volte questo non succede, percorsi di crescita coerenti sia per il personale docente che amministrativo e tecnico. Le persone al centro come? La domanda, attraverso un percorso di ascolto differenziato per ambiti di interesse, altrimenti non si arriva all'obiettivo prefissato. Incontri programmati a richiesta con tutti i gruppi dei componenti dei dipartimenti e con i gruppi di lavoro preposti. Un'analisi delle criticità dei singoli ambienti di lavoro è un altro passaggio fondamentale per noi e dobbiamo trovare la soluzione migliori per crescere insieme che è una cosa importantissima con finalità comuni, l'eguaglianza sociale, benessere lavorativo, la tolleranza che è una cosa che è diminuita molto e ridare la fiducia alle persone demotivate che questo è sempre stato un mio cavallo di battaglia e questo è una cosa innegabile. Promuovere il merito e il senso di appartenenza. Un punto fondamentale per lo sviluppo che tutti noi dovremo avere chiunque sia il Rettore deve politiche di pari opportunità, promuovere il bilancio di genere, mantenimento e miglioramento delle accessibilità ai benefici socio-assistenziali, forme di previdenza sanitaria, un altro mio punto importantissimo, personale, secondo asilo nido aziendale e attenzione, perché no, all'alimentazione delle nostre mense. Tutto questo si può avere con consolidamento dei rapporti con l'RSU, il Comitato Unico di Garanzia e il Comitato per l'Inclusione e l'Accessibilità, gli ex disabilità. Voucher sanitari temporanei per studentesse e studenti, assicurazione sanitaria permanente per tutto il personale di Ateneo. Questa è una sfida importante, ma non impossibile, non irrealizzabile. E questo ci darebbe una certa serenità per tutti noi e una creazione di un fondo per il sostegno delle situazioni di emergenza. Un secondo asilo nido, già uno l'abbiamo, deve essere migliorato, un secondo asilo nido nella parte di Borgo Roma. Semplificare con maggiore efficacia una parola breve, poter fare scacco matto all'università normativo centrica, in che maniera? Con una pianificazione di azioni concretamente realizzabili. Semplificare significa tutti insieme, rivedere tutti i regolamenti in essere per eliminare vincoli inutili, eliminare duplicazioni ed incoerenze, mappare le procedure, esaltare le differenze tra i dipartimenti, incentivare il dialogo tra gli uffici centrali e periferici, identificare con il contributo di chi vive quotidianamente i problemi, soluzioni differenziate per ciascun dipartimento. Semplificare con maggiore efficacia. La semplificazione non è un fine, ma è un mezzo. Guidare un percorso di semplificazione bisogna individuare la causa della complessità che possono essere. Non possiamo avere risposte semplici a problemi complessi. Poca comunicazione e condivisione, troppa attenzione al formalismo piuttosto che al risultato. Troppi passaggi senza responsabili del processo. Responsabilizzazione bassa dei nostri dirigenti. E in questi anni la macchina amministrativa è rimasta sicuramente accesa, ma questa macchina ha camminato poco e non ha corso. Far ripartire questa macchina è il mio primo obiettivo, riportando al centro le persone. La ricerca è ovvio, senza la ricerca noi non ci muoviamo. aumentare investimenti per la ricerca la ricerca curiosity driven, definire criteri di distribuzione delle risorse rispetto anche ai costi di fare ricerca, potenziare le strutture di supporto della progettualità competitiva, accessibilità all'utilizzo della piattaforma, attrezzature da parte per tutti, investimento di un numero maggiore di borse per i dottorati di ricerca, riservare fondamentale la peculiarità di ciascuna area, valutazione bibliometrici verso i non bibliometrici, incentivare la ricerca interdisciplinare, promuovere la ricerca di base, sostenere le progettazioni da enti privati, fondazione, pubblici e in conto terzi. Un Ateneo internazionale, attrattività e scambi nazionali ed internazionali, promuovere il nostro Ateneo, le sue eccellenze di ricerca e didattica all'estero, supportare gli studenti in percorsi all'estero di valore. Le studentesse e gli studenti sono il carburante per lo sviluppo futuro. La loro formazione deve essere assolutissimamente al centro e bisogna, dobbiamo, proteggere ed includere le fasce più deboli. Da sempre io ho sostenuto che gli studenti in tempi non sospetti quando io non ero in questa posizione sono la primavera delle nostre stagioni. Se dimentichiamo questo possiamo già dire che abbiamo fallito il nostro obiettivo. Perciò la formazione degli studenti deve e ripeto deve avere degli sbocchi occupazionali, un profilo internazionale della carriera, ambienti e risorse a disposizione. Questo sicuramente per gli studenti aumenterà il senso di appartenenza e partecipazione alla nostra attività e alla vita dell'Ateneo di Verona. Il miglioramento altro argomento importante, difficile, gli spazi per la didattica. Prima di tutto prima di vendere un'isola che non c'è la sostenibilità finanziaria. Questo per incrementare potrà dopo una valutazione attenta e portare a termine i piani edilizi che da tanti anni sono fermi per mille motivi. Perciò la Santa Marta, la Passaracqua, il Polo di Borgo a Roma e l'ampiamento di giurisprudenza sono punti che noi dovremo assolutissimamente nei prossimi sei anni iniziare e se si potesse anche concludere. Un supporto agli studenti lavoratori e non solo. Gli atleti devono venire da noi non devono andare da altre parti una dobbiamo dare ascolto tutoraggi frequenze sessioni di esami permessi congedi e corsi di recupero e non solo uomini supporto alle studentesse lavoratrici e atlete per migliorare i servizi salvaguardare il diritto allo studio di tutti e di tutte punto chiave sono tutti punti chiave ennesimo punto chiave la terza missione e non solo e mi spiegherò la terza missione è la forza da riceve la possibilità di poter essere realmente una missione importantissima dai risultati della ricerca della capacità di comunicare e legare con il territorio oggi forse forse è poco efficace perché insiste su diversi delegati e quindi potrebbe mancare un progetto unitario noi abbiamo l'obbligo di individuare il ventaglio delle otto attività più idonee rispetto alle nostre competenze e al territorio perciò in sintesi oggi manca una strategia rispetto alla terza missione tale strategia passa attraverso secondo il nostro giudizio di un delegato del rettore e un team dedicato sviluppare le capacità di comunicazione interna ed esterna un punto per noi molto importante è la quarta missione la cooperazione e lo sviluppo internazionale da e verso paesi a risorse limitate miglioramento continuo della sostenibilità ambientale con cui organizziamo le nostre attività i processi di acquisto il protocollo Green Public Procurement che il 12 di giugno a Palazzo Fini si riunirà per la seconda volta e la gestione delle strutture e credo e crediamo fortissimamente che il paradigma dell'economia circolare ovvero riduci riusa e ricicla possa finalmente diventare parte delle nostre abitudini e con molto piacere devo dire che Santa Marta e giurisprudenza ho già visto che si sono mosse in questa direzione la macchina amministrativa come possiamo fare per poter avere un miglioramento un approccio button up dal basso ascoltando e individuando i problemi valorizzando le persone nei processi decisionali decentramento senza dimenticarsi il coordinamento periferia centro ma anche maggiore comunicazione centro-centro riduzione oneri burocratici facendo leva sull'autonomia responsabile tutto questo ci porta a semplificare significa investire meglio il tempo di tutti e migliorare il benessere organizzativo delle persone troveremo una strada o ne costruiremo una per poterci riuscire discontinuità nella governance una buona governance si ottiene solo attraverso l'equilibrio tra rappresentanza responsabilità trasparenza e condivisione delle scelte i delegati del rettore dovranno essere affiancati da consiglieri competenti per le macro aree collaborazione di tutte le componenti e non subordinazione il senato accademico deve recuperare la sua funzione di indirizzo e orientamento politico accademico maggiore comunicazione diretta tra gli organi di governo maggiore coinvolgimento nei processi decisionali della componente studentesca e degli specializzanti del nostro Teneo il rettore ha l'obbligo ma è un obbligo che dovrebbe venire naturale di ascoltare e dialogare con tutti il dialogo attivo col CdA e il senato accademico organo di orientamento politico il rettore fa valere la voce dell'università di Verona e della sua comunità presso le realtà sociali economiche politiche pubbliche e private la governance funziona se si riesce a partecipare attivamente all'interno del dibattito pubblico ed istituzionale dovremo avere una maggior valenza in crui per un dialogo fortemente attivo e non passivo con il ministero oggi noi non siamo a palazzo ma siamo fuori in giardino e con questo vi ringrazio per la vostra attenzione e questo programma io ritengo che in maniera veramente passionale ed entusiasta possa avere una reale possibilità di prendere corpo grazie allora grazie intanto per avere risparmiato qualche minuto per la discussione successiva passiamo adesso al professore Andrea Sbarbati che si è laureato con l'Ode in medicina e chirurgia nell'82 e ha iniziato qui a Verona poi si è laureato ad Ancona nell'84 come ricercatore ed è ordinario di anatomia umana normale dal 94 attualmente è decano del consiglio della scuola di medicina è direttore da due mandati del dipartimento di neuroscienze biomedicina e movimento che ha ottenuto il riconoscimento di dipartimento di eccellenza ed è stato già coordinatore del corso di dottorato di ricerca in imaging multimodale ed è autore di più di 280 articoli scientifici su riviste internazionali la parola al professore Andrea Sbarbati grazie buongiorno a tutti noi siamo indubbiamente una grande università siamo partiti qualche decennio fa c'era un gruppo di piccoli scienziati tecnici studenti adesso siamo veramente un grosso centro di ricerca e di cultura di livello internazionale siamo sicuramente tra le migliori università italiane e possiamo essere fieri di quello che abbiamo fatto in questi anni perché siamo veramente una grande università devo dire che in questi mesi ho parlato con molti e non c'è solo entusiasmo c'è anche un senso di non sentirsi ascoltati da parte dei tecnici di non essere valorizzati abbastanza da parte dei docenti di non essere al centro da parte degli studenti non c'è solo entusiasmo e io penso che lo scopo per i prossimi anni sarà di creare ancora di più di quello che c'è adesso uno spirito di squadra cioè di fare in modo che riusciamo a far coincidere l'efficacia nel campo della ricerca della didattica e il benessere le linee guida sono sicuramente il rispetto di tutti una gestione non verticistica dobbiamo garantire risorse costanti un'organizzazione flessibile una libertà di espressione ed è chiaro che la linea è quella di una decentralizzazione che possa migliorare i rapporti la comunicazione tra i vertici e la base la parola è collegialità però ecco io vorrei provare oggi di scendere un po' dal livello delle frasi fatte delle parole per vedere se riusciamo a entrare su problemi un po' più concreti cosa si intende collegialità io vorrei fare alcuni esempi oggi io penso che dobbiamo dare un segnale forte qual è il primo atto del rettore la scelta del vicario ecco io propongo che il vicario non sia scelto solo dal rettore ma sia una figura a rotazione che esca dalle macro aree che non esprimono il rettore non deve essere una fotocopia del rettore una sua eminenza grigia ma deve essere una figura di collegamento tra il rettore e le macro aree chi è il vice rettore me lo dite voi lo scelgono le macro aree l'altro aspetto in cui si può manifestare il decentramento in termini concreti elevato grado di autonomia ai dipartimenti che significa per me per me significa in primo luogo dare i punti organici ai dipartimenti lo vedo membri del consiglio di amministrazione tra di voi tutti i noi direttori abbiamo subito questa domanda ma quanti punti organici abbiamo non lo so come fai a fare una programmazione efficace se non sai quanti punti organici è un ritorno all'antico si stabiliscono dei principi condivisi in base a quale si assegnano i punti organici ai dipartimenti e ogni dipartimento esegue la propria autonomia che viene proposta ovviamente al CDA il reclutamento è un punto focale perché voi sapete che ci sono esigenze contrastanti da un lato è chiaro che bisogna chiamare persone brave dall'esterno da un lato però bisogna anche incrementare il vivaio e tra gli interni facciamo le progressioni o chiamiamo giovani è chiaro che occorre una politica di equilibrio di armonia ma a mio avviso ci sono delle esigenze un po' più concrete delle altre qualcosa che dobbiamo fare per esempio io vivo con così con sconforzo la situazione di ricercatori a tempo indeterminato abilitati che si vedono scavalcati sistematicamente dai loro allievi a cui hanno fatto lezione con il meccanismo moderno dei ricercatori B per cui io penso che sono situazioni che vadano sanate per giustizia alcuni dipartimenti hanno già detto lì programmiamo questo passaggio altri sono stati un po' più tranquilli però io penso che sia un'esigenza a cui dobbiamo far fronte come pure dobbiamo investire qualcosa nei giovani noi nei progetti di rilievo internazionale siamo stati un po' penalizzati perché non avevamo tanti ricercatori giovani è chiaro che questi non consumano punti organici ma ci costano soldi noi siamo grazie a una gestione amministrativa estremamente diciamo parsimoniosa abbastanza ricchi abbiamo visto ieri in senato che abbiamo un residuo cassa considerevole si parlava di 150 milioni di euro forse dovremo investire qualcosa in giovani è chiaro che una accurata amministrazione è un patrimonio per tutti qualche cosa dobbiamo investire nei giovani a mio avviso è importante procedure amministrative semplificazione e decentramento sono le due parole che si sentono io penso che anche lì bisogna iniziare dal vertice dobbiamo dare un segnale il direttore generale deve essere scelto con una procedura condivisa chi fa il direttore generale viene e ci dice qual è il suo programma come sto facendo io come sta facendo il professor Nocini e il professor Combi che vogliono diventare rettori ci si presenta si dice io faccio il direttore generale perché voglio fare questo programma penso che sia una cosa fattibile come pure come è possibile eliminare questo senso di diciamo abbandono che hanno molti docenti tanti docenti dicono siamo sovraffatti da procedure burocratiche siamo costretti a fare burocrazia che non ci compete lo stesso problema l'hanno anche i tecnici di laboratorio allora cerchiamo di avvicinare in qualche modo il personale tecnico amministrativo il personale amministrativo e i docenti creando delle unità a supporto dei docenti cioè in parole povere mandiamo qualche persona nei dipartimenti è possibile farlo non si tratta di un numero enorme ma uno sforzo in questo senso a mio avviso è importante ecco dalle rappresentanze sindacali mi è arrivato questo documento mi hanno detto volete condividerlo si parla dei tecnici amministrativi a me sembra che contengano delle proposte ragionevoli con partecipare alle scelte un rapporto di rispetto da parte dell'azienda ospedaliera valorizzazione delle competenze penso che siano proposte quasi modeste forse la cosa in cui è un po' meno modesto è il discorso della ripresa di una politica di progressione per il personale tecnico amministrativo ecco è ovvio che noi abbiamo poco personale abbiamo poca spesa per il personale come dicevo a mio avviso forse dovremmo far rientrare la ripresa di una politica o di progressioni PEO PEV se non sono possibili queste di incentivazione di altro tipo studiamo qual è la forma consentita dalla legge ma cerchiamo di dare strategicamente con obiettivo qualche euro in più a chi guadagna 1200 euro ecco in tutte le azioni a mio avviso dovremo avere un occhio particolarmente attento a tutto ciò che riguarda la situazione relativa al benessere ovviamente bevi a Teneo centri estivi ma anche essere attenti alle discriminazioni ogni tipo di discriminazione adesso si può parlare di discriminazione in senso generico però io vorrei parlare in senso concreto se noi andiamo a guardare il personale che sta nei dipartimenti è abbastanza evidente che tra i tecnici tra i ricercatori universitari vedete le donne prevalgono poi a un certo punto diminuiscono fin quasi a scomparire a livello delle prime fasce questa è la madre di tutte le discriminazioni si tratta di una discriminazione estremamente concreta di cui dovremmo prendere atto non è che si parla di discriminazione in genere si parla di prime fasce che sono molte ma molte ma molto meno nella popolazione femminile rispetto a quella maschile ovviamente cercare se possibile puntare a forme di conciliazione tra la vita e il lavoro e puntare con forza a promuovere interventi a favore delle fasce deboli studentesche e no che hanno un forte valore ecco tutto ciò ovviamente non è che significa partire da zero ci sono già tante strutture che si stanno occupando di queste c'è il comitato unico di garanzia c'è il comitato per l'inclusione e l'accessibilità la commissione sostenibilità ecco tutte queste strutture andranno in qualche modo supportate ecco per quello che riguarda la ricerca ci troviamo ancora una volta su due situazioni che richiedono interventi contrastanti dal lato bisogna valorizzare l'eccellenza dei gruppi più forti più produttivi e dall'altra sostenere quelli più piccoli cercheremo di essere equilibrati bisognerà cercare di essere equilibrati da prospettare soluzioni armoniche io ho realizzato che verso Borgo Roma Borgo Trento si cerca di incrementare il personale tecnico si chiede di contenere l'accesso alle piattaforme tecnologiche mentre i poli economici umanistichi ci chiedono di potenziare strutture e servizi bibliotecari tutti chiedono più contatti con gli enti finanziatori e soprattutto di finanziare la ricerca di bus e i joint in modo costante cioè che non ci siano discontinuità tra un anno e l'altro per quello che riguarda la ricerca noi abbiamo tanti centri di ricerca alcuni con forte impatto interdipartimentale centro linguistico piattaforme tecnologiche sono tutti importanti e vanno sostenuti come va sostenuta l'azione nei confronti della creazione degli spin off che stanno nascendo ma sono aspetti importanti noi abbiamo tanti centri di ricerca di dipartimento tanti non sono tutti uguali sono anche discontinui come dimensioni è chiaro che rappresentano tuttavia un un arricchimento per l'Ateneo spesso nascono dall'iniziativa di un singolo docente penso che dovremo aiutarli nella didattica abbiamo una bella offerta i ragazzi ci chiedono soprattutto un maggior contatto con il mondo del lavoro ecco questo è quello che ho recepito bisognerebbe cercare di aumentare tutoraggi convenzioni stage soprattutto semplificare la burocrazia in questo senso che a volte è difficile da gestire l'internazionalizzazione è un aspetto importante io ho recepito tantissime proposte a volte discordanti chi dice bisognerà creare un gruppo di lavoro forse tra i diversi tra i diversi dipartimenti chi dice finanziamo i progetti europei che hanno avuto un buon rate un buon successo ma non sono stati finanziati chi dice apriamo un ufficio a Bruxelles chi dice prendiamo quelle iniziative che vedete lì sulla slide io penso che uno delle sfide più importanti sarà darci una strategia compiuta in questo senso altre università hanno scelto di metterci punti organico di chiamare persone che hanno progetti europei investendo punti organico si può anche fare così però è una scelta che vorrei condividere con voi non deve essere una scelta presa alla leggera può essere una strada ragionevole forse non la prima per gli studenti ovviamente la modernizzazione delle attrezzature didattiche sembra un elemento immediato sui banchi mancano addirittura le prese per i computer quindi per caricare i cellulari quindi bisogna intervenire in questo senso ma soprattutto bisogna rendere più attrattiva la vita fuori dall'università io ho un figlio che studia a Padova la vita di altre università fuori dall'università è molto più vivace quindi dovremmo cercare di lavorare in questo senso io penso che lo sviluppo edilizio oltre a completare quello che già è stato predisposto in termini anche di sostenibilità però non deve sicuramente dimenticare la creazione di aule e di luoghi di studio cioè non dobbiamo costruire edifici e poi ci troviamo senza aule questo è un aspetto importante essere creativi nella creazione dei due campus questi sono progetti che da anni alleggerono nell'università forse sarà il caso che potrebbero essere qui alla Passalacqua e nell'area retrostante in policlinico potrebbero ad esempio essere dei contenitori di iniziative come uno student center manca un po' lo culturale di aggregazione per gli studenti in cui gli studenti possono ritrovarsi fare anche attività di tipo sociale questi spazi di aggregazione noi abbiamo il dovere di darglielo e potrebbero trovare spazio come manca secondo me nella nostra università un luogo dove si possano fare manifestazioni culturali congressi se guardate anche qui se dobbiamo fare un congresso qui il lance dove lo facciamo nel corridoio è chiaro che dovremmo lo stesso problema c'è a Borgo Roma per cui pensiamo di inserire nella nostra piattaforma di costruzione edilizia che è imponente e bellissima noi grazie come dicevo ai risparmi siamo operati dall'amministrazione corretta negli ultimi anni siamo in grado di mettere in piedi un programma edilizio imponente da quasi 90 milioni di euro quindi pensiamo di risolvere anche questi questi problemi terza missione i dipartimenti si stanno muovendo da soli qui devo dire che veramente ogni dipartimento è partito c'è un'iniziativa che nasce dal basso forse va armonizzata per esempio alcuni dipartimenti stanno facendo delle piattaforme informatizzate di monitoraggio scusate sistematico delle attività forse bisognerebbe che i referenti si unissero e mettessero in atto un'omogenizzazione di queste iniziative per altre belle nel dialogo con il territorio che non è un altro dei nostri punti di forza la città ci conosce poco dobbiamo lavorare io punterei al rapporto con il mondo dell'associazionismo e del volontariato che è molto forte a Verona e può consentire un aggancio importante la valorizzazione delle sedi periferiche invece deve essere qualcosa in più adesso l'ho messa nel rapporto col territorio ma deve essere una scelta strategica pensiamo alle sedi del Trentino pensiamo alle sedi di Vicenza anche quelle nella provincia dobbiamo essere qualcosa in cui crediamo con forza perché rappresentano la nostra possibilità di crescita attività assistenziale la parola che si sente più spesso pronunciare nei rapporti con l'azienda rispetto si dice l'azienda deve rispettare noi e deve rispettare i patti è chiaro che se è previsto che ci sia un trattamento economico per il personale universitario non inferiore agli ospedalieri di pari grado e ci sia un accesso ai servizi nelle medesime condizioni bisogna rispettare questi accordi come bisogna permettere ai docenti universitari ai ricercatori che stanno in ospedale di fare ricerca come è previsto dalle leggi e rispettare i nostri specializzanti io penso che il momento focale del discorso sia quando a fine anno andremo alla scelta dei vertici è una modalità di lavoro come si sceglie il rettore in modalità condivisa come si sceglie il direttore generale come si sceglie il vice rettore con modalità condivisa dovremo chiedere ai vertici dell'azienda che si candidano che pensano di fare questo lavoro cosa intendano fare io premetto che non sono all'interno dell'azienda per cui posso garantire che in questo senso rappresenterò l'università totalmente ruolo del rettore il rettore deve esserci deve essere presente deve chiaramente fare questo lavoro in modo importante non subordinato ad altre attività io in questo senso do il massimo impegno è chiaro che bisogna ascoltare bisogna recepire le condizioni di disagio poi decidere ecco bisogna essere qualcuno che ascolta e poi decide io vorrei fare una parentesi poi concludo quando mi sono candidato per direttore di dipartimento oramai più di tre anni fa mi hanno detto questo modo di ascoltare la gente non funzionerà non funzionerà perché se cominci ad ascoltare tutti sei finito non è vero ha funzionato siamo diventati direttore di dipartimento di eccellenza siamo i secondi in Italia l'ANVUR ci ha dato per quello che l'ANVUR può valere ci ha dato una valutazione altissima ascoltare la gente funziona e come l'importante è che dopo qualcuno decida ecco io prenderei un impegno a questo punto secondo me è importante per ascoltare la gente dare degli impegni in qualche modo verificabili incontriamoci almeno due volte l'anno facciamo degli incontri tra rettore e macro aree con il personale tecnico e amministrativo con i rappresentanti degli studenti in modo tale che cerchiamo di diminuire questo gap se io trovo il tempo adesso di venire da voi come candidato dovrei trovarlo il tempo anche un domani che sono rettore secondo me con questo concludo dicendo che se noi applichiamo questi concetti rispetto condivisione decentramento potremmo fare sicuramente un'università in cui non solo siamo efficaci efficienti quelli lo siamo già ma un posto in cui sia bello lavorare in cui sia bello vivere grazie passiamo adesso al terzo candidato il professor Carlo Combi che si è laureato il Politecnico di Milano in Ingegneria Elettronica e ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria Biomedica dopo aver lavorato al Politecnico di Milano all'Università di Udine è arrivato a Verona nel 2001 e attualmente è professore di informatica dal 2007 al 2012 è stato direttore del Dipartimento di Informatica e dal 2013 al 2018 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e dall'ottobre del 2018 è prorettore vicario dell'Ateneo Veronese i principali interessi di ricerca sono nel campo delle basi dati e dei sistemi formativi applicati alla medicina grazie professor Mancolungo grazie a tutti per essere qua è abbastanza emozionante la prima volta che parlo in questa aula così grande se uso il fazzoletto non è perché sono commosso ma perché ho allergie volevo soltanto avvisarvi prima nel caso ci fosse nel iniziare a raccontarvi qual è il mio programma da rettore vorrei partire da considerazioni sullo stato attuale della nostra università io penso che la nostra università sia considerando i ranking considerando i risultati della visita CEV dove abbiamo ottenuto un punteggio superiore a 7 che vuol dire secondo i voti dei vecchi licei essere nella fase di eccellenza perché oltre l'otto è difficile avere siamo una buona università da vari punti di vista senz'altro dal punto di vista scientifico e didattico e l'altra cosa già rimarcata dai miei colleghi candidati è che siamo in una buona condizione economica e la buona condizione economica è legata anche alle nostre performance di attività scientifica e didattica perché non ricordiamo che in questi tempi piuttosto magri di assegnazione di risorse abbiamo spesso avuto più del minimo che il ministero già riducendo ci aveva assegnato e giusto per dare un esempio abbiamo avuto il 131% dell'assegnamento di punti organico quest'anno quindi vuol dire che come dire l'eccellenza rende sono già stati citati i dipartimenti di eccellenza e i dipartimenti di eccellenza oltre a essere un riconoscimento notevole della nostra attività hanno portato anche risorse economiche svariati milioni di euro e posizioni aggiunte di docenti ricercatori e tecnici quindi a questo punto di vista mi sentirei di dire che partiamo da una buona condizione d'altra parte siamo un'università giovanissima per cui non siamo ancora conosciuti completamente nel nostro contesto e anche nel contesto nazionale e nello stesso tempo proprio perché non siamo conosciuti abbiamo un ruolo di responsabilità di presenza dal punto di vista culturale scientifico a Verona ma non solo che è importante già dicevo che siamo orientati all'innovazione e alla ricerca nonostante siamo giovani abbiamo già una buona visibilità internazionale che però va coltivata va migliorata e direi che dobbiamo anche puntare a una visibilità internazionale non solo per la scienza per la parte scientifica e di ricerca ma anche per la nostra offerta didattica in lingua inglese che inizia a diventare importante anche da questo punto di vista quali sono le motivazioni e qual è lo scopo per cui mi sono candidato a rettore ma nel commentarvi questa slide partirei al contrario la prima cosa è che proprio perché abbiamo ottenuto buoni risultati ma nessuno è perfetto quindi ci sono delle cose da migliorare ci sono delle cose da portare a termine e avendo partecipato a questi ultimi sei anni di e anche prima come direttore di dipartimento di gestione dell'Ateneo mi piacerebbe portare a termine un po' di progetti un po' di attività raffinare alcune delle attività che abbiamo iniziato e nello stesso tempo però migliorare raffinare non basta ci saranno alcune azioni che poi declinerò nelle slide successive in cui bisogna fare cambiamento bisogna innovare qualcosa e lo scopo è quello di diventare un riferimento culturale scientifico sia a livello locale che a livello internazionale siamo sulla trada giusta non possiamo fermarci adesso tenendo presente che le risorse che abbiamo a disposizione e il contesto culturale in cui siamo non sempre ci avvantaggia non passa senz'altro come comportamento come dire tenuto in onore quello di studiare avere competenze e avere conoscenze passa di più quello di avere tanti follower su youtube di avere delle pagine facebook con tanti like o di riuscire nei dibattiti pubblici ad andare sulla voce a quello che parla contro di noi tutto questo tipo di comportamenti non rende facile la presenza culturale scientifica sul territorio sia veronese che non rispetto alle linee di sviluppo ci sono tre tre ambiti in cui l'ateneo viene anche valutato e per le quali riceve finanziamenti e attenzione da parte sia del ministero sia del territorio sono la ricerca la didattica e la terza missione per la ricerca ho già detto sempre più noi dobbiamo diventare un riferimento d'eccellenza abbiamo avuto un numero di dipartimenti che hanno potuto partecipare al progetto dipartimenti d'eccellenza notevole nove su dodici cinque hanno tenuto finanziamenti dobbiamo sfruttare questa posizione dobbiamo anche fare in modo che i dipartimenti che non sono riusciti a partecipare a progetti d'eccellenza non si sentano diminuiti ma anzi sviluppano progettualità per essere pronti al momento successivo quindi l'idea di avere progetti d'eccellenza non vuol dire poi relegare altri dipartimenti in ruoli di serie B vuol dire avere un effetto traino che tutti devono usare per andare avanti d'altra parte la didattica va consolidata ma soprattutto mi sentirei di dire che devono essere stimolate lauree magistrali nuovi in ambiti nuovi e non ancora coperti per i quali noi abbiamo tutte le competenze per lavorare faccio un esempio che poi corrisponde a progetti già partiti non tanto in didattica ma o come progetti d'eccellenza come progetti di ricerca l'ambito digital humanities l'ambito data science che prevede lauree magistrali dentro un percorso che non è soltanto tecnico informatico o matematico ma prevede la presenza dell'area umanistica e socio economica e di giurisprudenza molto forti quindi questi sono tutti direzioni in cui mi piacerebbe lavorare proprio per superare alcuni limiti legati al fatto che l'Ateneo è fatto da dipartimenti le logiche interne dipartimenti rischiano di prevalere mentre abbiamo delle potenzialità a scavalco dei dipartimenti la terza missione ha tante cose da fare tante cose sono state fatte nella terza missione c'è l'iniziativa individuale che è spesso il traino purtroppo fino adesso ed è questo anche uno dei risultati di ritorno dalla visita CEV non solo nel nostro Ateneo la terza missione viene percepita come tutto quello che non è ricerca didattica non è così ci sono tante anime diverse la terza missione tutte vanno coltivate considerate e tutte vanno gestite in modo organico nella terza missione c'è la divulgazione scientifica nella terza missione c'è la parte di organizzazione di eventi culturali e scientifici nella terza missione c'è anche tutta la parte di trasferimento tecnologico una delle cose cito una dell'iniziativa a caso ma perché mi ha coinvolto con il pessimismo di altri colleghi coinvolti abbiamo provato a fare divulgazione scientifica di vincoli temporali vi risparmio cosa sono e la divulgazione scientifica delle cose che noi facciamo di ricerca non è scontato farla e non si può fare davanti a un goccio di vino va tutto meglio si capisce meglio però non bastava avere nel go to science il goccio di vino allora abbiamo provato una versione mista musica e illustrazione scientifica dentro un bar di Borgo Roma è la cosa dato dei successi sperati e fra l'altro mi ha tolto la soddisfazione di suonare con un collega bravissimo che suona Bob Dylan e altre cose che viene negli Stati Uniti questo per dire che anche noi possiamo metterci in gioco su attività che non possono anche non essere strettamente tecniche ma che fanno divulgazione fare divulgazione però non è semplice quindi bisogna anche studiare come farla effettivamente ci sono però delle leve dei riferimenti che stanno alla base di queste proposte che poi cercherò anche di dettagliarvi meglio che riguarda senz'altro il rispetto e la valorizzazione delle persone abbiamo persone con competenze con caratteri con capacità relazionali eccellenti dobbiamo cercare di fare in modo che queste persone cooperino e lavorino nel modo più efficace senza il rispetto delle persone si potrebbero raggiungere magari i risultati in altro modo ma non è il mio approccio e non è il mio modo di fare d'altra parte dal punto di vista un po' più organizzativo i dipartimenti sono centrali in parte è già stato detto anche dai miei colleghi la centralità dei dipartimenti è basilare nella proposta dello sviluppo scientifico e didattico però queste proposte devono essere coordinate vi dicevo già prima a volte dobbiamo anche cercare di far lavorare insieme i dipartimenti sono i dipartimenti la fonte delle proposte che poi consiglio di amministrazione e senato dovranno coordinare e articolare in modo organico i rapporti fra senato accademico e consiglio di amministrazione devono essere migliorati io considero fisiologico il fatto che per adesso come dire i rapporti fra senato accademico e consiglio di amministrazione non sempre funzionino al 100% avere una riforma nel 2010 di tutta la nostra organizzazione prevede dei tempi di digestione della riforma stessa che non sono quelli di nove anni ma ce ne vorranno almeno il doppio però dobbiamo lavorare in questa direzione non dare niente per scontato secondo me un po' di passi avanti ci sono stati fatti e anche in questo ambito conta la comunicazione e la cooperazione fra senato e consiglio di amministrazione i ruoli dei due organi sono esplicitamente citati sia nel nostro statuto che nella legge 240 quindi quelli sono i punti di partenza da cui da cui iniziare tutto il discorso c'è senz'altro bisogno di razionalizzare e semplificare i processi organizzativi noi abbiamo ottenuto come dicevo prima ottimi risultati dalla visita CEV la visita CEV valuta sia il contenuto di quello che facciamo sia se siamo in grado dal punto di vista strutturale e organizzativo di seguire e di coordinare e di monitorare quello che stiamo facendo quindi aver ottenuto un punteggio alto metti in una posizione come dire di tranquillità nello stesso tempo come spesso succede e noi tutti siamo stati studenti prima che docenti o tecnici quando si prepara un esame piuttosto si leggono 20 pagine in più per essere sicuri che anche la domanda inaspettata abbia un qualche riferimento ecco in questo caso sono stati preparati documenti relazioni ci sono stati passi burocratici più del previsto per essere sicuri che se la commissione chiedeva un documento noi l'avevamo la commissione stessa come ha fatto in altri atenei ci ha poi detto alla fine che forse ne avevamo prodotti un po' troppi piuttosto che meno preferisco averne prodotti di più adesso però siamo nella fase in cui dobbiamo semplificare e dobbiamo snellire tutta questa parte burocratica che non venga più percepita come un peso questa è un po' una figura che racconta la mia visione complessiva approfitto di questa figura per dire che il mio programma ovviamente è originale l'ho scritto tutto e poi ho chiesto consigli e suggerimenti da alcuni colleghi e amici con cui ho più vicinanza l'ho scritto in latex quindi in questo modo mi sono già giocato il fatto di avere contributi da altri che non conoscono questo linguaggio di editing di solito tipico delle discipline scientifiche e questa figura devo commentarla anche perché mi ha portato via un pomeriggio a prepararla quindi adesso lasciatemi anche usare un po' della fatica che ho fatto per raccontarvi qual è la mia visione complessiva come vi dicevo prima noi siamo coinvolti in ricerca didattica e terza missione e abbiamo degli interlocutori esterni dei contesti esterni decisamente variati e variabili la sanità la sanità per la scuola di medicina è già stato sottolineato prima poi ci tornerò anche verso la fine della mia presentazione è senz'altro un contesto importante e rilevantissimo dal punto di vista sociale c'è la scuola ci sono le istituzioni c'è la parte tecnologica ci sono i servizi ci sono tanti contesti diversi in cui siamo attivi o tutti noi o parte di noi tenendo presente che ricerca didattica e terza missione non sono attività isolate che possono essere portate avanti in modo indipendente ricerca didattica si nutrono a vicenda e hanno continue interazioni non si può fare nel nostro ateneo e in generale nell'università non si può fare didattica di qualità se non c'è una ricerca solida dietro soprattutto sulle lauree magistrali e sui dottorati non si possono attrarre studenti se non abbiamo prima una didattica solida d'altra parte la terza missione come dire si occupa di di portare fuori i risultati a volte specialistici e interni di ricerca didattica e quindi ci sono interazioni in tutte le direzioni gli attori di queste interazioni le ho raccontate all'interno di questa specie di area circolare sono gli studenti i docenti e il personale tecnico amministrativo i docenti e il personale tecnico amministrativo tutto sommato è abbastanza facile considerarli interni in organizzazione io ho messo gli studenti perché senza studenti non c'è università proprio nella sua definizione di base e dall'altra definire il ruolo di studente come soltanto fra virgolette cliente che è una parola che non mi piace o colui che usufruisce di servizi da parte dell'Ateneo non è corretto perché gli studenti ci aiutano nei percorsi della didattica e sono essenziali nella ricerca gli studenti sono anche gli specializzanti di medicina o i dottorandi io i dottorandi ad esempio li ho sempre considerati anche i miei colleghi junior non tanto gli studenti quindi in questo ambito c'è un continuum che va considerato e quindi bisogna che tutti questi tre attori si sentano ben rappresentati e coinvolti nel giusto modo nelle nostre attività quel reticolo che vedete sotto sta a significare che studenti docenti e personale tecnico amministrativo non sono tre isole separate devono interagire devono colloquiare devono lavorare insieme se no il sistema università non va avanti il ruolo dagli dipartimenti l'avevo già in parte accennato bisogna che i dipartimenti stimolino e puntino all'eccellenza scientifica anche per ottenere il coordinamento con il personale tecnico amministrativo di tutte le singole attività contribuiscono alle linee strategiche di sviluppo una delle cose poi ci tornerò una delle cose già citate prima è che rapporto e che responsabilità il dipartimento con le linee strategiche rispetto al consiglio di amministrazione in questi anni poi ci tornerò dicevo e dirò anche cosa si può cambiare però tenete presente che in questi anni il consiglio di amministrazione non ha mai fatto cose che non venivano dal dipartimento un po' per l'approccio del consiglio di amministrazione un po' perché è esplicito nella 240 nello statuto che le proposte delle linee strategiche di ricerca sviluppo di didattica devono venire dai dipartimenti quindi per forza dipartimenti e consiglio di amministrazione devono incontrarsi l'importante è stabilire il punto giusto ma deve partire l'iniziativa dai dipartimenti e i dipartimenti hanno da questo punto di vista un compito non facile perché da una parte bisogna fare massa su alcune linee di ricerca importanti dall'altra bisogna rispettare le nicchie di eccellenza che ci sono e che non sono cittadini serie B all'interno del dipartimento e dall'altra c'è che la libertà di ricerca dei docenti va assolutamente rispettata però va fusa va resa in qualche modo sinergica ad altre libertà di ricerca direi in modo tale da ottenere complessivamente un risultato buono e il fatto che i nostri dipartimenti vadano bene è ancora una volta ben rappresentato dai risultati che abbiamo avuto nelle varie performance dipartimenti eccellenza vqr e così via dobbiamo continuare perché è una delle cose che servono anche per poi avere decisioni di cda e senato accademico consolidate dobbiamo continuare e approfondire anche una discussione che c'è anche a livello nazionale internazionale su quali sono i criteri di valutazione dei prodotti della ricerca e in questo io vedo uno sforzo da parte di tutte e due le anime bibliometriche dei nostri settori scientifico disciplinari direi e ne ho parlato anche ai vari dipartimenti dell'area umanistica con un po' più di sforzo sulle valutazioni da parte dei dipartimenti con settori non bibliometrici valutare nei settori non bibliometrici prodotti della ricerca non è facile però noi siamo università e dobbiamo fare anche le cose difficili e quindi su questo a tutto nostro vantaggio e a favorire la possibilità di dialogo fra dipartimenti diversi su questo bisogna insistere per la didattica ne accennavo già prima io vedo come molto importante la proposta di laurea magistrale innovative trasversali e aggiungo in lingua inglese innovative trasversali perché noi abbiamo ancora l'elasticità e la snellezza per reagire a come dire stimoli ambientali in modo più rapido di altri atenei più consolidati e più paludati l'abbiamo fatto ad esempio nell'informatica negli ultimi anni l'hanno fatto in altri contesti altri corsi di laurea adesso abbiamo tutta la parte per esempio delle lauree legate allo sviluppo sostenibile o all'ambito data science che citavo prima che sono terreni in cui possiamo davvero lavorare con i dipartimenti che cooperano fra loro per far questo però la didattica deve essere considerata una prima cittadina non come spesso succede nel nostro contesto perché questo è quello che succede poi quando si parla di progressione di carriera come ancillare rispetto alla ricerca ci sono alcuni di noi che si divertono a fare didattica in modo naturale altri che la considerano un peso bisogna che comunque sia riconosciuto lo sforzo che tutti noi facciamo nell'ambito della didattica quali sono le azioni che vorrei portare avanti nella didattica o attivare senz'altro uno sforzo che è stato iniziato con le attività legate alla nostra valutazione dell'ANVUR riguarda il coinvolgimento delle parti interessate coinvolgere le parti interessate usando una parola inglese gli stakeholders esterni non è facile non è una cosa a cui siamo abituati può portare molto ai vari corsi di laurea in alcuni ambiti è più semplice e gli stakeholders sono più individuati in altri ambiti bisogna capire esattamente quali sono i nostri interlocutori è però uno sforzo che va continuato dall'altra vi dicevo il processo di monitoraggio della qualità mi piacerebbe che non diventasse un obbligo burocratico come è stato percepito spesse volte come un peso ma bisognava farlo perché la prossima visita è fra i cinque anni quindi toccherà più o meno al prossimo rettore in ogni caso gestirla non pensiamo che però siccome è troppo in là allora possiamo lasciar perdere tutto bisogna semplificare razionalizzare e partire da quello che abbiamo fatto gli studenti stanno cambiando sta cambiando anche il modo di apprendere dagli studenti non possiamo tralasciare nuove modalità didattiche abbiamo degli studenti che imparano in modo diverso da noi con strumenti diversi da noi quando pensavo alle modalità didattiche mi viene in mente anche un esempio extra extra didattica ma per dare l'idea del perché dobbiamo cambiare avete mai guardato i film di 20 o 30 anni fa rispetto ai film recenti c'è una lentezza delle scene che in alcuni film è insopportabile da noi che non siamo proprio studenti giovani immaginatevi gli studenti che sono abituati a un genere di interazione completamente diverso su questo bisogna essere aggiornati non possiamo pensare di riproporre tecniche di insegnamento vecchie di 50 anni e più senza per questo come dire punire o dire che insegniamo male bisogna soltanto cercare di essere al passo o eventualmente anche di far capire agli studenti che certe tecniche vecchie devono rimanere così perché è necessario che rimangano così ma l'importante è che siamo consapevoli che abbiamo diverse scelte davanti la terza missione vi dicevo fino adesso è stata considerata come tutto quello che non c'entra con didattica e ricerca invece è decisamente importante noi siamo un soggetto che deve partecipare ai processi decisionali e culturali in Verona ci sono esempi appena trascorsi di presenza esplicita all'università su certi temi contro certi atteggiamenti di chiusura di chiamiamolo anche razzismo di intolleranza in genere e l'università non può far finta di niente e direi che in questo contesto sia nazionale che internazionale dove vi dicevo certi comportamenti non vengono considerati come premianti la nostra voce deve essere abbastanza esplicita equilibrata ma decisa e su questo la terza missione aiuta e importante per far presa ovviamente deve essere declinata a seconda delle aree e delle discipline scientifiche dei vari dipartimenti dal punto di vista organizzativo per l'ambito della terza missione che riguarda proprietà intellettuale e brevetti io penserei a un rinforzo e a una creazione di una nuova struttura organizzativa che abbia competenze sia tecniche che legali gestionali scientifiche come tanti altri atenei stanno facendo che coordini tutta la parte di attività di trasferimento tecnologico gestione di brevetti proprietà intellettuale progetti europei già abbiamo il liaison office già abbiamo il computer science park un buon numero di spin off dobbiamo rendere tutto questo coordinato e sempre più impattante anche per le ricerche e le proposte di progetti a livello europeo questo è un tema che è già stato toccato prima i rapporti con il sistema sanitario regionale è un tema delicato ho qua davanti il professor De Leo che in prima persona sta soffrendo in questi tempi come presidente della scuola ci sono vari aspetti problematici e non è facile parlare e avere una dialettica corretta con le persone che rappresentano il sistema sanitario regionale quindi su quello bisogna fare uno sforzo nel senso che medicina è una parte importante del nostro ateneo senza medicina il nostro ateneo sarebbe diverso sarebbe tutt'altra cosa e nello stesso tempo medicina è insieme ad altre aree scientifiche che integrano che sono come dire in qualche modo complementari a medicina per la nostra immagine di università quindi un problema di medicina è di tutti e anche i problemi degli altri sono di medicina dal punto di vista dei rapporti con il sistema sanitario regionale ci sono delle specificità che non possono essere tralasciate cito la gestione scuola di specialità avete tutti visto la protesta degli specializzandi recente per questo ruolo di prolettore ho avuto il brivido di usare un megafono per la prima volta davanti a 600 specializzandi un po' arrabbiati cercando di tranquillizzarli non avevo mai fatto questa cosa pubblica mi ha colpito davanti alla Santa Marta ma come dire nella sostanza il problema è che gli specializzandi sono un problema dell'università perché sono studenti universitari ma quando si fermano si ferma la parte assistenziale quindi in qualche modo è un problema che riguarda tutti e che va affrontato opportunamente altri problemi li ha già illustrati il professor Sbarbati problemi diversi trattamenti economici gestione del numero di posizioni epicali su tutto questo bisogna agire in modo coordinato e dal punto di vista di organizzazione la mia proposta al riguardo è quella di avere il presidente della scuola di medicina che ha anche delegato del rettore ai rapporti con il sistema socio-sanitario regionale in toto quindi da questo punto di vista sui tavoli importanti senza trascurare l'eventuale presenza del rettore quando serve ma c'è il presidente della scuola di medicina che agisce in rappresentanza completa direi dell'università di Verona e nello stesso tempo entrando il presidente della scuola di medicina fra i delegati del rettore diventa io auspico che diventi più facile che medicina si senta parte dell'ateneo permetta questa presenza di coinvolgere anche le altre aree nella gestione di questi processi e nello stesso tempo aiuti il presidente della scuola di medicina in toto a comprendere anche le esigenze delle altre aree quindi uno scopo di integrazione ulteriore rispetto all'amministrazione infrastrutture e servizi di supporto io prevedo un deciso segnale di discontinuità con ad esempio il coinvolgimento di un comitato del personale tecnico-amministrativo da organizzare che possa avere un compito istruttorio e consultivo per CDA e stato accademico qua il tema sembra banale ma se facciamo troppi comitati poi non lavora più nessuno nel senso che non si arriva mai alle decisioni quindi bisogna tenere un equilibrio e non è facile ma avere un luogo dove il personale tecnico-amministrativo possa dire cosa pensa di le organizzazioni questo è senz'altro importante alcuni processi organizzativi vanno ripensati soprattutto cito come esempio quelli che riguardano alcuni aspetti di comunicazione fra dipartimenti e amministrazione centrale e nei processi organizzativi le specifiche esigenze di ricerca didattica e terza missione vanno considerate e attentamente pesate in tutto questo è importante che l'attenzione alle persone e la capacità di dialogo fra tutto il personale e la dirigenza vengano opportunamente stimolate e arricchite rinforzate io non vorrei perdere in queste azioni una caratteristica che è dell'ateneo di Verona rispetto ad altri atenei dove ho lavorato cioè quello di avere una forte collaborazione e senso di appartenenza del personale tecnico-amministrativo la collaborazione del personale tecnico-amministrativo l'integrazione con i docenti è essenziale a Verona c'è più che in altri atenei bisogna senz'altro mantenerla ma piuttosto migliorarla avere l'idea che come in altri atenei succede che il personale tecnico-amministrativo sono specie di controllori di quello che fanno i docenti non è una cosa che rende da nessuna parte in sintesi io vorrei cercare di deburocratizzare l'ateneo supportare docenti ricercatori e stare attenti soprattutto alle fasce più deboli i dottorandi subiscono dei processi amministrativi burocratici che sono molto più pesanti dei docenti ad esempio nel rimborso delle missioni e tutto questo va opportunamente considerato perché non si può scaricare inefficienze organizzative sulle fasce più deboli l'internazionalizzazione è una parte importantissima su cui vorrei una delega forte per stabilire rapporti sempre più consolidati con altre università sia in Europa sia fuori Europa poi casomai se siete interessati io continuerei con risponderei e approfondirei con le domande sull'edilizia tanti progetti sono già partiti non è vero che non sono partiti sono partiti e purtroppo i tempi di attuazione sono pesanti all'interno dei tempi di attuazione i pesi maggiori sono rispetto all'ottenere tutte le certificazioni e le autorizzazioni dalle varie istituzioni preposte bisogna senz'altro andare avanti e in questo ovviamente il centro polifunzionale che raccoglie tutte le biblioteche dell'area umanistica e un auditorium ed è in vero netta ha un ruolo chiave e decisamente importante che sottolineerei sul Consiglio di Amministrazione e Senato qualcosa ho già detto bisogna continuare e rinforzare nel rispetto dei ruoli dei due organi la collaborazione e la cooperazione e quello che vedrei come facilitante in questi lavori è avere il tavolo dei direttori di dipartimento che ha degli incontri come dire molto funzionali e snelli ma operativi e organizzativi con il CDA la parte della programmazione delle risorse umane è decisamente importante è una corresponsabilità fra Consiglio di Amministrazione e Dipartimenti così va tenuta ma è senz'altro auspicabile che ci siano e conto di lavorare su questo delle scadenze della pianificazione dei criteri che siano espliciti per l'assegnamento di punti organico ma io più che punti organico direi l'assegnamento di persone di ruoli indipendentemente dai punti organico finisco la mia presentazione riportando quello che secondo me è la base di tutto quello che ho detto senza il codice etico del nostro ateneo tutte le cose che ho detto potrebbero essere fatte in modi distorti e senza senso in particolare cito due commi dell'articolo 5 rispetto alla persona uguaglianza e solidarietà la prima cortesia rispetto in qualunque comunicazione e ultimamente importante anche sul web e rispetto questi tempi alla lettera di vieti di discriminazione sono purtroppo li abbiamo vissuti fenomeni di discriminazione anche recentemente di intolleranza anche all'interno del nostro ateneo vanno monitorati vanno controllati vanno non sottovalutati soprattutto in un contesto come Verona dove sembra che tutti gli opposti si raccolgano in un'unica città grazie passiamo adesso alle domande prima di incominciare ricordo che c'è un numero Whatsapp per le sedie che sono collegate in streaming ed è già indicato ovvero sul web comunque lo ripeto 349 15 36 0 9 9 la dottoressa Cavallo Tiziana Cavallo leggerà eventualmente queste domande che vengono formulate ricordo l'impegno dei due minuti per domanda e faremo un ciclo di quattro domande in genere tre dal pubblico qui presente possibilmente e due e una tramite Whatsapp la parola a voi basta alzare la mano ci sono dei microfoni portatili quindi dite il vostro cognome così che evitiamo di fare confusione poi eventualmente nelle risposte e non tutte le domande saranno diciamo così discusse da tutti i candidati vero cioè basta proporre prego sì non so se prego tanto grazie bellissima giornata sempre che incontrare i futuri candidati rettore sono componente del senato accademico e e ho una sensazione completamente diversa dopo la seduta di ieri qui in qualche modo si è detto che cola l'ardo dai muri di un ivr la cosa mi stupisce cola l'ardo da tutti i muri di un ivr la cosa mi stupisce perché ieri il bilancio il conto consuntivo che io non ho approvato assieme ad un altro collega dava cifre molto diverse quindi non 150 milioni perché questo allora legittimerebbe molte proteste da parte del personale tecnico amministrativo che si sta capigliando per poche decine di euro spiego molto rapidamente che cosa ho capito io in tanti anni di rapporti istituzionali c'è un bilancio che è determinato da fondi che vengono dal ministero e da tasse sovratasse che pagano gli studenti per rimatricolarsi vi è un rapporto di legge che stabilisce che il costo del personale non può aumentare superare l'ottanta per cento il rapporto attualmente in università di verona è fermo sul sessanta quattro per cento quindi vi è si direbbe un margine particolarmente significativo non è vero il sessanta quattro per cento è fissato su quella cifra perché danni il personale docente non ha gli scatti stipendiali quando gli scatti stipendiali entreranno in regime quel rapporto diventerà da sessanta quattro e sessantadue per cento dell'FFO più le tasse pagate ai studenti cioè ditemi oggi che ho sbagliato questi dati e che posso andare a casa contento e più ricco di come sono venuto questa mattina grazie chi vuole intervenire qui chi vuole intervenire prego alzate bene il braccio chiedo scusa della battuta ma grazie il nome buongiorno sono Cristina Ianna Morelli presidente del comitato unico di garanzia allora il comitato attua progetti per garantire pari opportunità quanti lavorano e studiano in Ateneo e agisce contro ogni forma di discriminazione molestia e mobbing tra l'iniziativa intraprese degli anni per la conciliazione abbiamo attivato il Bebeteneo il centro estivo il telelavoro il 3 giugno verrà inaugurata la stanza allattamento al pianotero di Palazzo Giuliani la convenzione con il CUS le palestre di Via Paradiso il progetto Identità Alia Silva de Mec con linguaggio di genere per lo sportello d'ascolto psicologico per il disagio lavorativo bimbi in ufficio regolamento contro il mobbing e le molestie incontri formativi e informativi tanto è stato fatto e tanto ancora può essere fatto tra cui il bilancio di genere alcuni di voi hanno già chiarito le proprie intenzioni in modo esplicito vorrei quindi chiedervi a nome del comitato quali saranno le prime due azioni positive che avete in mente di realizzare al fine di garantire pari opportunità l'assenza di forme di discriminazione in Ateneo grazie grazie al termine della domanda perché purtroppo allora io sono Ugo Monaco biologo strutturale in pensione e la mia domanda diciamo riguarda il fatto che in realtà quando si vota un candidato rettore si vota in realtà un team perché il rettore sarà affiancato da un certo numero di persone allora la mia domanda precisa che rivolgo a tutte e tre è questa avete già pensato chi sarà il delegato alla ricerca scientifica grazie ebbene dottoressa Cavallo e dei fondo abbiamo una domanda dalla biblioteca Borgo Roma Martina Perazzoli chiede buongiorno vorrei chiedere gentilmente ai signori candidati se e quanto concretamente intendono investire nella formazione costante ed efficace soprattutto realmente fruibile dal punto di vista organizzativo del personale tecnico amministrativo grazie allora passiamo a quello di risposte il professor Sbarbati accendere ma sì felice è evidente che bisogna fare delle scelte è evidente che non è che siamo la canna del gas forse non con la lardo ma non siamo neanche la canna del gas facciamo delle scelte io penso che investire un po' di euri sul promozione sull'incentivazione del personale sia una scelta strategica è vero che noi otteniamo grandissimi risultati ma è anche vero come ha detto Felice che potremmo arrivare all'80% e siamo al 60% il 63% quindi siamo estremamente virtuosi ora siamo virtuosi però lo stiamo pagando lo stanno pagando i nostri tecnici amministrativi io ho detto semplicemente questo saranno 10 euro ma andiamo in questo senso è importante la scelta strategica diciamolo quelli che sono sono però andiamo in questa direzione senza divagare per quello che riguarda Cristina ditecelo voi io non posso dire quali sono le prime due nel senso è come se quali sono le due se vuoi più bene la mamma o il papà dobbiamo fare una scelta strategica non deve essere il rettore capisci deve essere il comitato che si riunisce il rettore si siede ascolta e poi decidiamo insieme d'accordo Monaco cos'è che hai chiesto Ugo non mi ricordo ah no assolutamente no ecco io non ho scelto nessuno non ho promesso niente a nessuno è chiaro che se andavo in giro dicevo al professor Bottari diventi vice rettore lui magari mi votava sicuramente non ho promesso niente a nessuno le cariche si scelgono insieme Ugo per favore il team si costruisce tutti insieme io chiederò anche a Carlo Combi a Francesco Noscini siamo tutti amici anche se adesso non sembra però ho dito che siamo amici e scegliamo scegliamo tutti insieme chissà va avanti scegliamo tutti insieme scegliamo tutti insieme i delegati scegliamo tutti insieme le cariche ma io li scelgo col mio gruppo tu li scelgo tu li scelgo insieme con gli altri va bene favore stavo dicendo per quello che riguarda invece l'incentivazione dei tecnici io posso dire quello che ha fatto il mio dipartimento noi abbiamo stabilito un budget che serve per mandare i tecnici ai corsi di formazione per mandare i tecnici congressi questo budget viene rimpolpato ogni anno fino adesso siamo riusciti a coprire ti do io il voto ho premuto grazie siamo siamo riusciti a coprire tutte le richieste e penso che sia possibile in questo senso operare a livello di dipartimento grazie al professor Gambin che chiedeva se poteva stare tranquillo e felice nei prossimi tempi io risponderei sì puoi stare tranquillo e felice nel senso che tranquillo e felice felice è sempre però anche tranquillo insomma qualche battuta bisogna farla se no dopo il clima diventa troppo serio possiamo dire puoi essere felice di fatto e anche di nome nel senso che il nostro Ateneo rispetto ad altri Atenei in questo clima di sottofinanziamento dell'università è in una buona condizione per essere ancora propositivo su alcune linee noi abbiamo ad esempio la capacità di dividere il fur fra i dipartimenti che poi va sui ricercatori docenti che non è di tutti gli Atenei abbiamo la capacità di proporre progetti di ricerca di base e joint project e nella mia testa anche altri tipi di progetti che ho scritto nel programma ad esempio interdisciplinari o per singoli ricercatori che altri non hanno certo se continuiamo a ricevere di meno dovremo fare i conti con delle priorità o delle scelte che non saranno sempre felici ma siamo ancora in grado di lavorare in questa direzione poi io cerco anche di essere ottimista cioè non si può sempre dare di meno passano i governi passano gli approcci la ricerca e l'università sono sempre importantissime ma ricevo sempre meno soldi io sogno che prima o poi arrivi qualcuno che non ne parla tanto ma ci dà qualche soldo in più cioè peggio di così non si può andare tenete presente che questa situazione è ancora peggiore legata alle leggi per cui se il fondo di finanziamento ordinario cala non è che noi possiamo fra virgolette riprenderci qualcosa aumentando le tasse perché le tasse hanno una percentuale fissa rispetto al fondo di funzionamento ordinario quindi paradossalmente se ci cresce decresce uno non può aumentare e in certi casi potrebbe addirittura decrescere anche l'altro quindi come dire la situazione non è fantastica l'Ateneo di Verona si può permettere delle cose che altri Ateneo non si possono permettere dire che siamo nel migliore dei mondi non posso dirtelo la seconda domanda è la dottoressa Ianna Morelli io vedo fra le possibili azioni da fare la prima che altri Atenei hanno iniziato il famoso bilancio di genere bilancio di genere per chi non sapesse adesso io mi occupo di dati è come guardare i dati del bilancio con un altro occhio e un'altra classificazione allora abbiamo appena passato il bilancio costruttivo ieri già ci sono due o tre visioni e non andiamo in tilt non è facilissimo costruire questi bilanci però avere una visione anche rispetto a quante risorse sono state fatte per le variazioni legate al supporto delle docenti con bambini piccoli piuttosto che capire rispetto ai concorsi come sono andati le assegnazioni personale questo è senza altro importante l'altra cosa che farei come seconda anche a supporto della prima io vengo dalla parte dei dati per avere davvero una delle azioni di pari opportunità importanti bisogna conoscere il contesto meglio provo a spiegarmi io posso anche andare a guardare come ha fatto il professor Sbarbati le percentuali dei docenti in posizioni epicali se sono donne o no ma ci sono certi settori scientifico disciplinari faccio un esempio in casa ingegneria dove sono tutti maschi non posso pretendere il 50% devo vedere se vado bene o male rispetto alla percentuale informatica anni fa era considerata la disciplina in cui andavano anche le donne perché ingegneria era più per maschi adesso a informatica abbiamo una caterva di uomini e pochissime donne però se attaccate davanti bio a informatica sono solo donne questi meccanismi sociali io non riesco a comprendere fino in fondo ma bisogna avere dei dati per poter fare poi delle azioni corrette e l'ultima domanda sulla formazione personale tecnico amministrativo ecco su quella io avevo già scritto delle cose in programma se andate a riguardarlo la formazione del personale tecnico amministrativo è fondamentale va continuata come la formazione ad esempio la didattica nel caso del personale docente e in particolare vedo anche una formazione rispetto ad esempio alle persone che devono andare all'estero o devono proporre corsi di laurea in lingua inglese e occuparsi di questi aspetti qua quindi una formazione e anche una mobilità internazionale che non è detto che sia solo dei docenti ci sono delle mobilità internazionali importanti per il personale tecnico amministrativo che vanno sfruttate e il professor Nocini grazie la risposta subito una risposta secca dopo arriverò su Gambin io non ho scelto proprio nessuno il nostro gruppo non ha scelto nessuno perciò il delegato alla ricerca noi non l'avremo decideremo inizieremo a decidere a studiare il problema quando se saremo noi vincenti potremo fare un programma di questo tipo lo trovo più razionale il sul discorso dei fondi del professor Gambin io non faccio parte della governance perché ho corso senza nessun titolo non ho partecipato non ho fatto non sono direttore di niente tranne la mia struttura ospedaliera perciò non so la situazione come sono perciò penso che di dover ascoltare il prorettore il nostro senatore o un altro senatore Gambin sono loro che ci devono dire lo stato dell'arte non certamente uno che è fuori dalla governance che ha voluto essere fuori dalla governance io ritengo che il punto più importante sia il punto che ha sollevato la dottoressa cioè noi dobbiamo fare assolutamente un bilancio di genere dobbiamo migliorare lo stato dell'asilo che c'è già in essere un secondo asilo con anche i contributi dell'azienda ospedaliera di Verona dato che sarà a Borgo Roma e così possiamo risparmiare i soldi l'altra mia personale idea è riunire subito se saremo il gruppo diciamo di Nocini il gruppo di Nocini deve riunire subito l'RSU il Cug e l'altro gruppo gli ex disabili mettersi a un tavolo dare la priorità delle cose che noi dovremmo fare una valutazione da attingere anche da fondi esterni e perché no un delegato a questo tipo di problema con quattro collaboratori che nascano dentro a questo gruppo non fuori perché così si può essere più razionali e vincenti l'ultima da Borgo Roma è un problema gravissimo importantissimo c'è una situazione che il professor Combi ha spiegato molto bene io aggiungerei una corretta valutazione economica da parte dei tecnici che lavorano anche per l'azienda e vengono sottopagati due euro non sono neanche un caffè e anche gli amministrativi che lavorano per l'azienda perciò potremmo risparmiare dei soldi e dare più dignità alle persone e un'altra mia battaglia potrebbe essere sul fondo accessorio che questo Ateneo ha stabilito a 0,1 doveva essere 0,10 è stato stabilito da 16 18 17 viene un decreto legislativo ferma il tutto l'Ateneo stabilisce 0,1 io direi guardiamo un po' gli altri Atenei qua vicini cosa fanno e se non troviamo una giusta risposta prendiamo e andiamo a portare il problema in cui in maniera decisa educata ma non possiamo tornare indietro su nulla grazie grazie a voi allora possiamo partire col secondo ciclo di domande c'era già chi si era prenotato la volta scorsa grazie invito gli altri a alzare il braccio lo risse a cavallo vero sì sì grazie Monsurro Dipartimento di Medicina e volevo chiedere sono stata vostro esperto nazionale distaccato all'European Research Council per i quattro anni passati sono appena rientrata e mi rendo conto che noi non partecipiamo a parte io ho cercato di supportare di aiutare alcuni colleghi che conoscevo personalmente ma da quando sono tornata non sono stata contattata nessuno c'è chi non è a conoscenza di questi finanziamenti parliamo di 14 milioni di euro per cinque anni finanziamenti reali e meritocratici puliti allora mi domandavo avete lievemente toccato questo piano che tipo di supporto ai docenti e agli studenti che vogliono partecipare a finanziamenti europei l'Ateneo pensa di implementare ad esempio l'esempio del Max Planck che ha una struttura solida che aiuta sia per la correlazione linguistica che per la preparazione delle presentazioni quindi come l'Ateneo come il rettore il futuro rettore vede il supporto a noi docenti che vogliamo presentare paper e finanziamenti europei grazie io faccio fatica a intercettare il radar di Dottoressa Cavallo c'è qualche domanda? chiedo scusa ma i presenti possono alzare la mano che io vi dirotto il microfono intanto facciamo quella che arriva da Borgo Roma Federico Guarelli cosa ne pensate di un possibile ampliamento dell'offerta didattica anche in nuovi ambiti come scienze politiche attualmente non abbiamo opzioni in quel campo prego Barres Corrado CGL io non volevo intervenire perché non sono un elettore però ogni cinque anni non gronda solo Lardo ma gronda anche un insieme di parole bellissime gestione collettiva ascolto che io nella esperienza di contrattazione di questo Ateneo non c'è bisogno di un comitato degli ATA perché c'è già un'RSU eletta dalla stragrande maggioranza dei tecnici e degli amministrativi è che in incontri formali faccio un esempio solo anzi ne faccio due primo esempio discutiamo della riorganizzazione dell'Ateneo che ha avuto ricadute pesantissime e mi risulta che anche i dipartimenti in questo percorso abbiano avuto poca voce la risposta che mi è stata data è stata prima lo votiamo in Senato e poi ne discutiamo in RSU se permettete questa è la negazione della collegialità della condivisione o altro ma la seconda cosa più grave che voglio segnalare e sulla domanda è come intendete cambiare le relazioni con i lavoratori del vostro Ateneo che sono 780 e oltre io discuto per un anno per poche migliaia di lire rispetto a un contratto integrativo di lire di euro scusate l'absus per poche decine di euro siglo un contratto e poi mi viene detto che un mese prima era arrivata la segnalazione dei revisori dei conti che quel contratto non è firmabile se ci fosse in giro Brunetta a proposito di Anvur e di valutazione della qualità quel funzionario l'avrebbe già licenziato permettetemi la gravità dell'affermazione ma è per dire che si scoprono io vi chiedo di capire cosa cambia in questo percorso per permettere ai lavoratori di poter partecipare all'elaborazione e alla gestione collegiale condivisa cooperativa di questo Ateneo grazie altre domande prego Buongiorno Dalmonte tecnico amministrativo io volevo un'opinione chiaramente molto veloce da parte dei candidati su un tema che è stato toccato mi pare da tutti e tre a margine di tante questioni che chiaramente non poteva essere approfondito soprattutto su tutti i vari rami e quello che riguarda fra l'altro era al centro anche di una delle domande della piattaforma RSU citata anche da voi è quello che riguarda i rapporti che nella vostra visione di quello che sarà il vostro mandato dovranno intervenire fra l'università in quanto tale e il servizio sanitario mi verrebbe da dire nazionale e in particolare ovviamente regionale con particolare riferimento perché altrimenti la domanda diventa troppo vasta mi rendo conto e focus ai rapporti con l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona che nella denominazione è universitaria nella pratica molto meno questo sia per alcuni temi specifici e scottanti d'attualità che sono stati ricordati da diversi di voi gli specializzanti l'equiparazione degli stipendi persone tecniche in particolare ed altro mi verrebbe da dire anche per il mancato rispetto perdonate l'espressione un po' forte poi naturalmente non c'è tempo per essere più diplomatici di normative di contrattazioni nazionali e quant'altro su alcuni macro temi che riguardano ad esempio la programmazione del personale che riguardano ad esempio la contrattazione congiunta del personale in questo caso tecnico-amministrativo che riguardano ad esempio la gestione e i compiti assistenziali di personale inserito in quota assistenziale siccome qua parliamo di tanti soldi ma veramente tanti e non a caso ultimo cenno la stessa legge 240 prevedeva espressamente che nelle università con corsi di studio di ambito sanitario dovesse essere per legge prevista una struttura di raccordo quindi in questo caso per noi non è stata una scelta è stato un obbligo di legge e questo obbligo è appunto legato alla necessità di fare programmazione comune quindi questi sono tanti soldi e quindi non è solo una questione che riguarda medicina ma riguarda soldi risparmiati anche per tutta l'università per altre cose come avete intenzione di approcciare queste tematiche grazie allora passiamo al tiro delle risposte il professor Combi permettetemi di rispondere molto velocemente alla risposta di Ugo Monaco che se non sembra che faccia discriminazione contro i pensionati invece sono una risorsa preziosa io non ho in mente chi è il delegato della ricerca adesso ho ovviamente delle idee ma dirlo qua prima di averlo chiesto alla persona sarebbe veramente non piacevole io ho in mente però una squadra e compiti di questa squadra che avete già visto anche nella presentazione il delegato della ricerca ha un ruolo senz'altro importante per tutti i motivi che vi ho detto e anche perché c'è bisogno che sappia gestire interdisciplinarità nella ricerca poi mi fermo vado avanti invece con le domande di questo giro come supportare per finanziamenti europei e per allora noi abbiamo questo va in poi nella direzione della slide che ho progettato cioè l'area ricerca adesso in parte svolge questo compito e in questi anni abbiamo anche delle persone assunte come personale tecnico amministrativo che ha però anche competenze tecniche nel aggiornare sui temi di ricerca nello stimolare i docenti rispetto alle varie call dei progetti europei che lavorano già diciamo nelle serie decentrate questa parte però la vorrei rinforzare come dicevo prima con una struttura organizzativa in cui questo è uno degli ambiti ad esempio in cui io vedo bene la figura del tecnologo che è una figura recente di una persona assunta con un contratto a tempo determinato di 5 anni che dal punto di vista di qualifica è un po' fra l'EPI e il dirigente per intenderci e che sappia però coordinare questo tipo di competenze per renderci efficaci in questa direzione un'altra opzione e cosa di interesse è che su questo può aiutarci la fondazione Univeneto che è partita che adesso fra l'altro è con il coordinamento da parte del rettore di Verona avere la possibilità di fare massa critica anche rispetto a finanziamenti europei con le altre università del Veneto potrebbe aiutare i docenti a trovare i canali giusti e il modo giusto di porsi per questi progetti quindi lavoro di squadra insieme alle altre università con tutte le attenzioni al fatto che Padova può diventare prevaricante perché sono bravi e sono anche grandi quindi bisogna capire bene i rapporti però in questo su tutte e due le parti interne e con le altre tenei l'idea è di andare in questa direzione ampliamento dell'offerta didattica a scienze politiche in sé io non ho nessuna preclusione bisogna che il progetto sia coerente voi sapete che ogni volta che si propone un progetto di laurea io assumo magistrale perché mi sembra che sia più interessante proporre lauree magistrali che vadano a colmare carenze dell'offerta formativa anche in altri atenei si può parlarne si può progettare bisogna che abbiamo le risorse per partire perché l'offerta di nuove lauree non è un modo per poi chiedere il nuovo personale non si fa così da un po' di anni bisogna però avere un progetto capire il territorio come si pone e poi si segue l'iter di tutte le altre lauree magistrali si verifica la sostenibilità ma come dire sulla carta nulla in contrario provo a rispondere invece alle due parti diciamo così le domande sindacali chiamiamole in questo modo anche se toccano aspetti diversi alcune delle cose che ha chiesto cioè come intendiamo coinvolgere in parte nella mia presentazione c'erano cioè avere un comitato che faccia funzione istruttoria lei dice di no io invece penso di sì rimaniamo di quest'idea se io riesco a incontrare le persone io ho partecipato alle ultime riunioni dell'RSU rispetto ad esempio l'ultima rispetto ad esempio al welfare e alla definizione delle risorse in quel caso abbiamo lavorato bene e non ho visto approcci differenti e abbiamo sostenuto anche la scelta dell'RSU in questo in questo contesto per cui lo dico per tutti cioè i fondi del welfare che all'inizio usavamo anche per parte del corpo docente in termini di legge dovevano essere usati per il personale tecnico-amministrativo l'RSU a un certo punto a fronte dell'aumentato numero di richieste ce l'hanno fatto presente noi abbiamo applicato questa richiesta in modo lineare scatenando fra l'altro la reazione anche di alcuni docenti che è recitissima anche quella ma rispetto a questo io non ho vissuto almeno in quel contesto problemi capisco sulla riorganizzazione che ci siano stati invece problemi ci sono stati da diverse parti avere un tavolo in cui la gente si possa parlare e possa avere un ruolo consultivo importante a me sembra una base di partenza sensata mi dispiace che non la pensi così ma mi sembra una buona una buona partenza dopodiché se ci sono proposte ulteriori le si valuta abbiamo rappresentanza del personale tecnico-amministrativo sia in consiglio tecnico-amministrativo sia in consiglio di amministrazione che in senato accademico sono sempre stati più che considerati più che ben apprezzati e si è sempre risposto nel merito io non vedo senz'altro si può migliorare ma non vedo una situazione di criticità solo in quella direzione il colloquio con tutte le parti di cui si compone l'Ateneo è essenziale in tutti i contesti e per tutte le qualifiche rispetto ai rapporti con l'azienda sanitaria ospedaliera questo è una parte senz'altro delicata allora è ovvio che in quel clima di collaborazione e di presenza del personale tecnico-amministrativo anche con funzioni istruttorie consultive ci si può dare una mano dopodiché una delle cose che forse noi abbiamo sottovalutato che comunque dobbiamo considerare in modo diverso nei prossimi anni è che l'azienda ospedaliera integrata universitaria annualmente deve venire a raccontare al consiglio di amministrazione dell'Ateneo proprio per questo legame profondo che abbiamo il bilancio e le attività fatte io dico abbiamo sottovalutato perché forse una presenza più critica dovevamo averla ma lì è uno dei luoghi in cui si può chiedere conto delle scelte che sono state fatte e avere dietro una parte istruttoria fatta insieme al personale tecnico si chiede conto in modo diverso e più completo quindi su quello abbiamo margini ma io direi che i luoghi dove discutere li abbiamo dobbiamo sfruttarli bene e meglio grazie professore Nolcini continuando il discorso del professor Combi io aggiungerei una cosa che se siamo in queste condizioni è colpa nostra perché noi non siamo mai andati al tavolo punto e l'azienda ospedaliera ci ha trattati come fratelli minori noi che portavamo avanti tutto e questo è una battaglia che noi sentiamo moltissimo questo tipo di discriminazione pazzesca bisogna che il nuovo elettore chiunque sia non abbia un delegato vada lui e non si deve trattare con il cobello di turno né col mantovan di turno si deve trattare con Zaia potere con potere altrimenti avremo sempre perso signori non c'è discussione sul problema della collega ripeto l'ennesimo problema io di queste cose penso che il professor Combi abbia una strada ovviamente conosce molto di più problemi io non posso in dieci giorni capire tutti i problemi perché sarebbero avrei capito dei problemi delle bugie io penso proprio di poter valutare le cose perciò è un giusto punto che le richiede e penso che si possa sviluppare per il collega di Borgo Roma che chiamava dove chiamava il discorso di scienze politiche perché no però noi dobbiamo vedere il bilancio dobbiamo vedere le aule ieri si stava parlando che ci sono mancano delle aule manca ma anche noi quando noi potremo essere nelle condizioni di bilancio realmente sano e io non posso permettermi di dire sei sano non sano o mezzano non ce l'ho non lo so però se hai un bilancio buono e facendo finendo tutte le cose che sono state raccontate finora dopo si può partire per una nuova avventura altrimenti non si riesce per Corrado e Corrado sì è un problema gravissimo quello che tu hai detto è una situazione che sembra quasi di essere presa in giro ci sono anche i cell che sono sottopagati con tripo di lavoro che fanno male il lavoro dei docenti la mia idea quella che ho detto e non ho capito proprio per sordità di distanza se un concetto di mettere dentro nella governance uno che nasce dall'RSU dal CUC o dagli ex disabili non potrebbe essere l'inizio reale di una garanzia che le cose non vengono fatte oggi bianco domani giallo dopo domani nero perché lì vuol dire che verrà il momento che l'aspetto sindacale appartiene alla governance e deve assumersi tutte le responsabilità nel bene e nel male qui si è parlato troppo ma si è fatto grande filosofia adesso dobbiamo scendere nel pratico e avete visto dei colleghi hanno dato delle indicazioni anche molto corrette che io posso condividere purtroppo io ritengo che il punto che ha espresso colui che non vota che è in pensione è un punto reale che tutti noi subiamo l'altro punto che mi vede molto vicino e con questo io concludo noi dove siamo stati datevi voi una risposta per quanto riguarda la domanda fatta alla dottoressa Monsurro le dice non sono stato ascoltato ma io per esempio mi pare che ti ho chiamato come persona ma non tanto perché è simpatica quanto perché una persona che viene da Bruxelles va ascoltata quando uno vuole impostare una strategia ecco come dicevo le informazioni che ho raccolto sono tante quello che forse manca è una strategia globale è chiaro che molti chiedono il potenziamento di uffici centrali di supporto alla presentazione delle domande l'altra possibilità l'ho già detto c'è la possibilità di supportare anche finanziariamente le domande che sono state presentate e non hanno avuto un finanziamento pur avendo avuto un buon giudizio è chiaro che bisogna lavorare in questo senso bisogna lavorare con le persone che sono competenti ci sono tante persone competenti non partiamo da zero abbiamo una strategia che dobbiamo costituire il nostro dipartimento io vedo che i progetti europei li facciamo il fatto che io ti ringrazio che hai detto che ci sono dei fondi a cui noi non accediamo io direi può essere un momento di utilità e anche di questo incontro che non serve solo per sentire promesse se è vero che esistono dei progetti europei a cui possiamo far domanda proviamo a farla per quello che riguarda il discorso dell'aumento della didattica è chiaro che è uno strumento a cui dobbiamo far fronte con in modo pacato responsabile noi abbiamo dei doveri nei confronti degli studenti la commissione didattica ha lavorato bene molto attentamente sta valutando su ogni corso se ci sono dei garanti è chiaro che la richiesta di aumento deve venire in ogni caso dalle macro aree dai singoli diciamo dai singoli dipartimenti che devono valutare come espandersi è chiaro che l'università di verona non può fermarsi adesso io non so se scienze politiche è più urgente di un altro è chiaro che il principio dell'autonomia del dipartimento della macro area del corso di studio deve essere tutelato ci sono cose che vengono presentate a livello centrale ma bisogna che a livello locale si esplichi questa azione di autonomia per quello che riguarda l'RSU cosa devo dire al collega mi spiace se le proposte le promesse che sono state fatte non sono state mantenute ci sono andati in pensione ho sentito tante promesse che non sono state mantenute non l'ho fatta io è chiaro che è facile promettere è chiaro che è facile promettere io quello che posso dire è che l'ho proiettata vista la proposta ecco questo è secondo me il modo di lavoro io ora ho in qualche modo contattato i rappresentanti sindacali penso che anche qui dobbiamo stabilire un metodo di lavoro io ho detto nell'ultima diapositiva stabiliamo dei contatti permanenti perlomeno ascoltiamoci ecco io promesse non amo farle quello che posso promettere è l'unica cosa che c'è un dialogo io sono qui dall'84 sono cresciuto con i tecnici sono molto sensibile ai problemi dei tecnici e sono convinto l'ho già detto l'ho ripetuto che dobbiamo fare delle scelte strategiche noi investiamo tanti soldi nel mattone si può anche investire qualcosa nel materiale umano io dico i miei cioè neurone o mattone cioè dobbiamo scegliere se puntare sulle persone o solo sull'edilizio deve essere una scelta strategica quella di valorizzare il personale perché altrimenti otteniamo un risultato opposto la gente ha dissuefazione e lavora meno bene io penso che i risultati che si ottengono nascono dall'impegno di tutti io ho visto nel mio dipartimento diceva Carlo è difficile avere tutti otto noi abbiamo avuto tutti otto siamo stati secondi in Italia tra i dipartimenti e questo dipende anche dal fatto che abbiamo tanti tecnici abbiamo tanta gente che ha lavorato bene è chiaro che dobbiamo fare di tutto per coinvolgerli nelle scelte e per dargli delle gratificazioni economiche quello che è stato fatto il passato io non ovviamente non posso dire è chiaro che si può fare di più questo che cercavo di trasmettere all'inizio per quello che riguarda il ruolo con l'azienda allora come dicevo la parola magica è rispetto noi abbiamo dei protocolli regionali che sono buoni però non vengono applicati a livello locale non so se sei d'accordo ora io penso che anche qui ci sia però una cosa da chiaprire dire cioè che il rettore deve esserci ho l'ho detto non deve fare altre cose deve essere presente deve essere forse più a Venezia di quanto non stia qui d'accordo dovrebbe dirvi ragazzi adesso io prendo vado a Venezia questo è verissimo però è anche vero che non deve fare il direttore della scuola di medicina la scuola di medicina deve essere diretta dal presidente della scuola di medicina il rettore deve fare il rettore non so se hai capito questo concetto per cui se anche lì la scuola di medicina in passato non si è fatta sentire se i nostri colleghi clinici non sono stati abbastanza forti io dico lasciatemi provare io non sono all'interno dell'azienda io sono un ricercatore ho sempre fatto ricerca ho 43 10 index per cui a un certo punto io quello che vi posso promettere è che a rispetterò il ruolo del presidente della scuola di medicina e b lo supporterò non lo lascio andare a Venezia da solo allora passiamo adesso un ulteriore giro di domande non so se dalle altre sedi ce ne siano se vuoi cominciare con le domande che sono arrivate nel frattempo io io devo dire una cosa allora questo messaggio che che Andrea ha dato è un messaggio fondamentalmente giusto però non vorrei che questo messaggio passasse che il nostro presidente della scuola prima e l'attuale non abbiano lavorato perché hanno lavorato o possiamo dirla tutta sono stati un po' bloccati nel loro lavoro ecco perché si lo dico io ecco perché tu va giusto va giusto che il rettore vada io sono d'accordo con lui al cento per cento perché magari passano di messaggi che uno non capisce i preside passato il preside presente che sta lavorando devono essere supportati dal rettore ci deve essere la presenza perché l'azienda ospedaliera la fa da padrone ti dice di sì e dopo dici no ecco perché prima vi ho detto il rettore deve andare da zaia e concordare bene le cose perché altrimenti le seconde linee poi scambiano le carte e tutti noi tutti noi tutte le persone i tecnici gli amministrativi i docenti tutti siamo in condizioni difficili perché c'è una disparità totale nei confronti degli altri questo non è giusto non è socialmente giusto non è colpa di Tizio non è giusto perché noi dobbiamo andare a discutere con fermezza e non piegarci davanti a queste cose il messaggio lo ripeto perché ci tengo tantissimo il presidente prima il presidente oggi hanno lavorato sono stati depotenziati punto questa è la verità non si può io non ho mai tirato i sassi addosso a nessuno ed è giusto continuare a non tirare i sassi però non è giusto che passino dei messaggi scorretti perché allora la trasparenza non c'è più trasparenza e la curva sud lasciamola perdere si va nel tifo e il tifo non porta bene grazie e comunque passiamo adesso all'ultimo giro di domande e naturalmente c'è il professor Schena qui e poi le altre e che sono anche whatsapp e poi chi vuole intervenire dovrebbe essere l'ultimo giro grazie allora Federico Schena come già introdotto dal professor Marco Longo abbiamo sentito molte cose tutte molto corrette e giuste io ho anche letto tutti i programmi presentati ho anche trovato qualche riferimento un po' discordante anche rispetto a situazioni interne qualcuno ha scritto che c'è una percezione di una difficoltà di relazione diciamo nella gestione tra centro e periferia bisogna capire se è una percezione oppure se è un dato di fatto perché sono due termini diversi ma io volevo però centrare la mia domanda su un aspetto molto preciso abbiamo anche sentito che siamo sicuramente bravi bravini eccellenti forse eccellenti in termine eccessivo ma certamente manca forse in questo Ateneo per ragioni diverse anche logistiche strutturali due aspetti su cui io chiederei l'intervento dei candidati il primo è il senso di appartenenza a questa realtà cioè sentirsi parte di una unica università degli studi di Verona e sentirlo magari con un certo orgoglio la prima domanda è che cosa pensate di fare per aumentare il senso di appartenenza di tutti i lavoratori tecnici e docenti a questa università e la seconda è l'impatto dell'Ateneo su questa realtà veronese regionale nazionale anche su questa possiamo dire che impattiamo tantissimo però se ci sono diversi diciamo indicatori di quanto impatta una realtà importante come l'università anche numericamente su una realtà sociale e se noi ne guardiamo qualcuno il numero di diciamo lo spazio che ci viene attribuito a livello di informazione forse diciamo è un ambito in cui si può fare molto di più la domanda è cosa pensate di fare perché aumenti l'impatto di questa realtà università di Verona sulla realtà veronese in primo luogo perché qui siamo e qui lavoriamo ma anche negli ambiti territoriali un po' più allargati grazie non so se il professore Cavallo allora arriva sempre da Borgo Roma Deborah Brocco buongiorno in tutte e tre le presentazioni non ho sentito parlare in alcun modo della vostra visione di come garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Ateneo tra cui ricordiamo rientrano non solo i dipendenti ma anche specializzanti dottorandi assegnisti studenti in tirocinio mi farebbe piacere in quanto per lavoro ci occupiamo di garantire la sicurezza dei lavoratori affrontando ogni giorno problematiche diverse senza sentirsi appoggiati dai vertici mi farebbe piacere sentire che l'argomento non è l'ultimo dei vostri pensieri ma che avete dei progetti in merito grazie qualche altro intervento in sala ce n'è un'altra anche se mai in Whatsapp allora passiamo alla seconda domanda Whatsapp allora sempre da Borgo Roma Elisabetta Zanolin come intendete procedere rispetto alla punizione relativa allo sciopero di quelli che per protesta non hanno mandato il lavoro all'Anvur intendete mantenere il congelamento del FUR per questi ricercatori qualche domanda in sala prego non c'è nessun problema allora volete che concludiamo qui intanto oggi poi ci sarà l'occasione per dire di più volevo dire anche che in questo ultimo giro di risposte direi che i candidati possono in qualche modo aggiungere qualche parola di carattere generale se lo ritengono opportuno per concludere prego il professor Nocini toccherebbe Allora io partirei dall'ultima domanda quella mi vede l'ultima domanda è quella di promettere 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 è bella la risposta devi dire sì o no secondo me questa cosa qui diventa molto difficile da rispondere perché io le punizioni le ho sempre odiate cioè tu hai votato la punizione però in senato quando eri senatore prima volta io sono contro le punizioni perciò io darei un aiuto come ho sempre detto le persone più che sono state non brillanti nelle loro pubblicazioni e ricerche quando si è parlato di punizioni c'è stato un senato dove mi guardavo c'erano delle firme bisogna vedere chi ha firmato per le punizioni e bisogna chiedere a loro perché hanno firmato l'altra cosa è schiena bisogna pensare sì cosa fare il tuo lavoro come scienze motori ha già avuto grande attrazione bisogna riuscire a uscire e riuscire a portare quello che siamo capaci di fare un po' fuori perciò le possibilità di farci conoscere a livello a livello pratico è fondamentale altrimenti tu sei in una posizione di vantaggio e di svantaggio noi siamo completamente svantaggiati perché poter avere anche trend o altre parti è sicuramente mettere la bandiera dell'università fuori e questo è sicuramente farsi conoscere e perciò direi che le due risposte più importanti senza escludere nessuno erano queste due qui cioè le punizioni fatte per le persone che sono state firmate dal senato io ritengo che questo non sia corretto la seconda cominciamo un attimo noi stessi a migliorarci e portare fuori quello che noi sappiamo fare e questa è una domanda un po' brillante di quello che tutti noi possiamo fare ma ci sono anche tanti biotech informatica ci sono tante situazioni che possono nei loro campi far vedere come possiamo portare fuori per cultura e civiltà dare forza al 700 anni di far vedere che ci siamo di Dante qua a Verona perciò ci sono tante possibilità reali concrete da poter partire subito che cosa c'era per la sicurezza la sicurezza dei lavoratori ritengo che sia una delle tantissime cose importanti però la sicurezza dei lavoratori bisognerà entrare nel sistema nella governance a parlare con i responsabili e dettare le linee guida per tutti è ovvio senza la sicurezza non si va avanti è stata una battaglia lunghissima durissima fin dall'inizio della nostra Repubblica perciò è correttissimo poter porre attenzione a queste cose ma se non sei armato devi stare attento ad andare nella giungla dove ci sono le bestie feroci perciò direi armiamoci e partiamo non rimanere da soli insieme se uno si gira indietro trova il generale c'è più nessuno da solo lì così non arrivi da nessuna parte bene questo è il mio pensiero che penso che sia un pensiero molto semplice però rispecchia la realtà di oggi per quello che riguarda il discorso di Federico Schena aumentare il senso di appartenenza è la mia prima diapositiva quello secondo me è il problema centrale bisogna che cerchiamo in qualsiasi modo di aumentare il senso di appartenenza la via io l'ho indicata secondo me ho proposto un modo di lavoro che sia un modo di lavoro in cui si ascolta la gente in cui si cerca di lavorare insieme perché non abbiamo altra possibilità non c'è un'altra possibilità lì la parola magica è con partecipazione con partecipazione alle scelte con partecipazione ai doveri e quindi con partecipazione anche alle decisioni per cui secondo me quella è la strada per aumentare il senso di appartenenza l'ho detto ed è la mia prima diapositiva per quello che riguarda la presenza nella città anche lì non è che siamo particolarmente brillanti io ho suggerito collegarsi di più col mondo dell'associazionismo il mondo del volontariato bisognerebbe rafforzare quelle iniziative che puntano ad avere maggior presa nella città ecco chiaramente ci sono delle cose che si fanno dentro l'ospedale ci sono delle cose che si fanno dentro i laboratori di ricerca ci sono delle cose che si possono fare nella città qui penso che potremmo sfruttare la parte importante di questo lavoro che fanno i nostri dipartimenti umanistici i nostri dipartimenti economici che forse in questo senso potrebbero essere trainanti più che la ricerca dura che fa più fatica ad avere aggancio con la città per cui è una strada che va presa e bisogna supportare queste iniziative Deborah da Borgo Roma io è vero non l'ho scritto ma perché non ho percepito un grosso problema per quello che riguarda il sistema di protezione e prevenzione bisogna soprattutto rispettare le norme di legge quindi di lì non si non si scappa non abbiamo sempre questa percezione è chiaro che se la legge dice che in un'aula da 50 posti non si può stare in 100 è chiaro che dovremmo rispettare queste norme se dobbiamo scrivere a volte le norme sono un po' ossessive devo dire cioè deve essere scritto fuori dalla porta chi può entrare cosa deve esserci nel frigorifero però è anche vero che la strada è questo fuori dal mio frigorifero non c'è scritto quante zucchine ci sono è chiaro che bisogna assolutamente rispettarle vanno prese assolutamente sul serio devo dire che nei miei contatti che ho avuto in questi mesi non ho percepito particolari criticità quindi il servizio mi sembra funzioni siamo andati bene quindi non mi sembra che bisogna prendere una strada diversa andiamo avanti per quello che riguarda il discorso del congelamento del FUR qualunque sia stata l'iniziativa del passato io l'ho scritto sul programma sono assolutamente favorevole alla libertà di protesta per cui è chiaro che il FUR va dato a tutti chi protesta o chi non protesta questa è la mia posizione per cui si scongela il FUR certo che si scongela l'ho già scritto nel programma penso di essere stato l'unico che l'ha scritto chiaramente professor Combi sì grazie ora parto dalla domanda del professor Schiena io penso di essere stato quello che ha scritto percezione di problemi di rapporti e non un dato di fatto perché l'ho fatto perché vengo da un'area in cui i dati contano quindi o faccio un'analisi e ti dico che c'è perché ho rilevato su tutte le persone questo problema o se lo faccio rispetto a qualche colloquio qualche percezione su un problema particolare io ti parlo di percezione e poi però bisogna indagare e approfondire meglio quindi l'ho fatto perché mi sembra sensato essere prudente il problema è che in questo contesto avere anche solo la percezione di questa cosa fa alzare le antenne e qualcosa bisogna fare quindi questo è il perché della mia prudenza su questo rispetto al senso di appartenenza il senso di appartenenza lo si riscopre lo si rinforza con un po' tutte le cose che ho cercato di veicolare nella mia presentazione perché quando parlo di forte integrazione fra personale tecnico e amministrativo e docenti questo non fa che rinforzare il senso di appartenenza quando dico che la nostra università ha dei lati di eccellenza o comunque di qualità vuol dire rinforzare questo spirito di chiamiamo spirito di corpo è ovvio che è una cosa che cresce piano che c'è già in parte ed è soddisfacente ma che non si limita a questo e che deve avere anche riconoscimenti espliciti delle varie figure professionalità anche molto concreti economici e non solo di ruolo di promozioni di progressione di carriera l'altra cosa sull'impatto sulla realtà locale qua siamo in un contesto un po' comune ad altri atenei ma abbiamo probabilmente meno capacità di impatto di altri atenei più consolidati quando si tratta della notizia ad effetto abbiamo un impatto fantastico io non ho mai visto tante volte la fotografia del professor Panattoni come dopo la famosa raccolta firme che abbiamo firmato in quell'occasione allora lì l'impatto è stato secondo me forte molto forte e fra l'altro con tutti i rischi che poi ogni tanto vengano veicolate cose sbagliate in questo caso mi sembra che il rischio l'abbiamo eliminato ma quando andiamo a porci in questi come dire contesti o notizie o eventi che hanno una particolare enfasi sulla stampa anche nazionale il rischio poi è che si venga non interpretati correttamente che non si porga la notizia nel mondo giusto e su questo bisogna stare attenti però lì l'impatto l'abbiamo avuto se invece qualcuno di noi il premio Nobel spero che venga riconosciuto ma premi e riconoscimenti di eccellenza certe volte su ambiti specialistici facciamo fatica a farli passare ecco su questo approfitto per dire e c'è nel programma che per questo e altri contesti la mia idea è che la parte comunicazione considerando l'impatto solo per l'aspetto comunicazione ci sono tanti altri aspetti rilevanti ma sulla comunicazione approfitto per sottolineare che secondo me l'ufficio comunicazione deve avere una parte in staff al rettore cioè bisogna essere efficaci immediatamente rispetto a queste notizie anche perché certe notizie su social e cose del genere si sprecano o si giocano o hanno l'effetto in poco tempo e poi c'è un effetto decadimento immediato quindi l'attenzione e anche la capacità di sfruttare questi canali comunicativi richiede per certe cose un ufficio in staff a rettore e direttore generale problema della salute e sicurezza dei lavoratori problema estremamente importante ci sono tante sfaccettature sapete che c'è un delegato per la sicurezza e la salute dei lavoratori praticamente obbligatorio di legge nella squadra del rettore il lavoro fatto è stato buono fortunatamente non ci sono episodi di criticità estrema ma bisogna sempre stare molto attenti perché vi cito soltanto una delle cose che abbiamo incontrato recentemente lo smaltimento dei rifiuti ha delle leggi che cambiano e ha delle aziende esterne che devono smaltire che improvvisamente se queste leggi cambiano chiudono l'accesso del materiale ai loro siti di stoccaggio o siti di smaltimento questo provoca degli effetti a valanga per cui dobbiamo tenerci noi questo materiale in luoghi opportuni sembra una banalità bisogna saperli affrontare nel modo più efficace e anche veloce possibile su quello bisogna stare attenti anche rispetto alla dotazione del personale e anche alle competenze del personale che stiamo assegnando lì è una delle cose su cui siamo senz'altro molto attenti l'altra cosa che io vorrei superare è che il famoso corso sulla sicurezza è un'altra delle cose che tanti di noi hanno vissuto come un dovere burocratico a me è capitata un'edizione in cui abbiamo alzato la voce con chi ci stava facendo il corso perché c'erano degli anche ambiti di incompetenza cioè ci dicevano delle cose contraddittorie contrastanti fra di loro tutto questo non può che essere migliorato ci sono delle società ad hoc ma che bisogna stimolare nel modo opportuno dopodiché io rispetto adesso per prendere una battuta che siamo alla fine rispetto ai miei studenti ogni tanto li faccio ridere e poi però sottolineo che loro devono seguirsi anche loro il corso per la sicurezza quando entro in aula il primo giorno gli dico state attenti che secondo le regole io dovrei dirvi che le uscite sono di là la classe si mette a ridere perché faccio finta di essere la vostra però almeno in quel momento capiscono che forse è il caso che si diano e poi passo la parte seria dalla faccia capiscono che sto passando sulla parte seria e cercano di seguirmi su quello che è davvero importante per la sicurezza quindi però che noi viviamo la parte di educazione della sicurezza come un dovere è veramente come un dovere burocratico è veramente la parte che mi piacerebbe cambiare nessuno di noi abbiamo usato la parola punizione per gli obiettori di coscienza rispetto all'invio dei prodotti della ricerca per la valutazione AMBUR qua ci sono vari aspetti a trattare il primo lasciatemelo dire un po' critico è la cosa è nata male nel senso che secondo me è assurdo che ci sia la possibilità che un docente non mandi i suoi prodotti quando quei prodotti sono dell'Ateneo allora io rispetto la legge che lascia la libertà e devo fare i conti con questa libertà però permettetemi di dire che insomma se vogliamo essere valutati come azienda poi cos'è il mio dipendente che ha venduto i miei prodotti per quel pomeriggio dice no guarda che questo pomeriggio non ti consegno quello che ho venduto me lo tengo io e non ti dico cosa ho venduto permettetemi questo non siamo un'azienda però se siamo valutati per quello e per la cosiddetta produttività allora deve essere l'azienda che risolve anche problemi ad esempio di non comunicazione fra i docenti per cui se poi due docenti presentano lo stesso prodotto per caso veniamo anche penalizzati sapete che il prodotto poi veniva contato la metà quindi tutte queste cose sono un po' sbagliate in partenza la libertà individuale l'abbiamo rispettata perché bisogna rispettarla ed è importante fare questa cosa però siccome io lo considero una cosa analoga al diritto di sciopero quando uno sciopera perde una catena di soldi che corrispondono a un giorno di stipendio in questo caso noi abbiamo perso un buon numero di finanziamenti neanche facilmente quantificabili perché siccome a seconda della valutazione del prodotto potevamo andare sopra o sotto media non so neanche a ex post capire quanto abbiamo perso di sicuro però non ci abbiamo guadagnato con queste persone che non hanno prodotto alcuni hanno prodotto a livelli di eccellenza lo sappiamo ma non hanno non hanno dato nessuna alcuni si sono pentiti e me l'han detto amaramente però adesso quello che abbiamo fatto noi è di dire bene la quota del FUR che è direttamente legata a questo fondo non prevede che dia finanziamenti a questo docente ma questo docente poteva fare tutte le richieste dal dipartimento di altri progetti di partecipazione a bandi competitivi tutto quello che un dipartimento può mettere in atto per avere altri canali per ottenere quei fondi ci sembrava un minimo per la coerenza di tutto il sistema so che in popolare e finire così una presentazione da candidato rettore probabilmente non ci voglio però io preferisco essere onesto non ho fatto promesse prima dico perché abbiamo fatto così abbiamo degli obiettori di coscienza che sono in posizione apicali adesso presidenti collegi didattici o di scuole di dottorato non sono stati puniti in nessun altro modo ma lì c'era un rapporto così diretto che ci è sembrato in coscienza di doverlo gestire in questo modo allora io terminerei questa nostra presentazione su invito del professor Marco Longo ricordando allora qualche collega scherzando mi ha detto beh alla fine potresti fare non l'hai mai fatto prima fai il combi la qualunque prometti tutto a tutti e ci proviamo non riesco lo stesso io terminerei sottolineando che senz'altro dobbiamo cambiare senz'altro dobbiamo migliorare per me sta alla base che per cambiare migliorare bisogna conoscere il sistema perché se no cambiare da zero senza tener conto della storia che abbiamo vissuto fino adesso non porta a nessun vero cambiamento e questo è quello che mi sento di dire che farò nel caso fossi eletto grazie non so se gli altri candidati vogliono raggiungere qualche cosa no chiedo dato che abbiamo qualche minuto ma io voglio dire che comunque finisca questa competizione per me è stata un'esperienza molto bella adesso io non è che si è assetato di potere sono ordinario dal 94 e non ho mai fatto nessuna campagna non ho mai assunto cariche fino a tre anni fa quando mi sembrava il caso di appendere le scarpe al chiodo e dedicarmi ad altro ho fatto il direttore di dipartimento negli ultimi tre anni penso di averlo fatto bene il dipartimento va bene non mi hanno ancora ucciso per cui sono persino forse sono masochista ho dei problemi mi sono divertito persino a fare il direttore vogliate bene i vostri direttori di dipartimento trattateli bene forse è questo questa campagna elettorale è stata bella è stato un momento bello perché ho conosciuto tanti di voi se devo fare il rettore lo faccio mi impegno la mia campagna elettorale finisce nel 2025 chi non ho contattato prima della campagna prima della votazione le contatto dopo senza essere uno stalker pensionati compresi visto che qua i pensionati sono vedo tanti pensionati l'Italia è un paese quindi io finisco con la frase con cui ho iniziato siamo una grande università dobbiamo essere orgogliosi di essere qui in questa università che è una grande università e in una grande città grazie professor Nucini vuol dire qualcosa? io devo ringraziare quando sono ho aperto ho rotto il ghiaccio stamattina vi ringrazio perché con la vostra presenza abbiamo fatto realmente un'assemblea e la bellezza che ci eravate in tanti poi mi associo al collega Sbarbati e al collega Combi che è stata una bella esperienza e che comunque vada speriamo che chi vinca faccia il massimo che può fare e che non ci siano troppi malumori non ci siano situazioni che ci separano perché altrimenti abbiamo parlato 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 e siamo arrivati a zero io vi ringrazio tantissimo a nome mio e di tutto il gruppo che ha lavorato con me grazie ecco a conclusione di questo incontro io devo anzitutto ricordare le date in cui siamo tutti chiamati a partecipare per le votazioni anche se la prima votazione può sembrare inutile dato che richiede un quorum molto elevato faccio presente che se non venite a votare non si raggiunge il quorum si protrae la tribolazione con ulteriore votazione 14 maggio quindi non molto in là va bene martedì però della prossima settimana e quindi mi raccomando poi le altre 16 23 e 29 eventualmente maggio per gli orari chiedo scusa di un momento per favore abbiamo terminato il primo momento di silenzio portate pazienza gli orari sono dalle 9 alle 17 del pomeriggio vi pregherei nelle due sedi dei seggi di arrivare per tempo di avere la bontà di non protrarre troppo oltre le 17 perché poi c'è lo spoglio e tutto il resto eccetera devo ringraziare i candidati per la loro presenza e certamente per la loro buona volontà di impegno e credo che tutti noi siamo grati a loro così come ci auguriamo tutti che questo confronto possa essere utile per la vostra scelta e quindi per il futuro della nostra università grazie un applauso per il decano dai grazie grazie per diranno sei stato bravo ecco credevo che ci fossero più domande invece va bene grazie Grazie.